de quincy la diligenza inglese l esultanza del movimento forse vent'anni o più prima che mi iscrivesse ad oxford il signor palmer allora deputato di bat aveva fatto due cose molto difficili da attuare su questo nostro piccolo pianeta la terra per quanto facili possano ritenerle gli eccentrici abitatori delle comete aveva inventato le dirigenze postali e aveva sposato la figlia di un duca egli era perciò esattamente due volte più grande di galileo poiché questo inventò è vero o scoprì ciò che è lo stesso i satelliti di giove proprio quelle cose cioè che vengono subito dopo le diligenze nelle due pretese essenziali di rapidità e puntualità ma d'altra parte non sposò la figlia di un duca queste diligenze organizzate dal signor palmer meritano una minuta attenzione da parte mia poiché hanno tanto contribuito da allora a sviluppare l'anarchia dei miei sogni azione che essi esercitarono innanzitutto con la velocità sino allora mai raggiunta rivelando così per prime l'esultanza del movimento poi con gli effetti grandiosi che il contrasto tra la luce delle lampade e l'oscurità delle strade solitarie offriva lo sguardo in terzo luogo con lo spettacolo di bellezza e di forza animale così spesso offerto dai cavalli scelti per il servizio delle diligenze quarto con la consapevolezza che un'intelligenza presente al centro di così varie distanze di temporali oscurità pericoli dominava tutti gli ostacoli in una salda cooperazione con un risultato di importanza nazionale questo servizio postale parlava al mio sentimento come per una possente orchestra in cui mille strumenti ognuno indipendente dall'altro e perciò soggetti a dissonanze eppure tutti obbedienti come schiavi alla suprema pacchetta di un grande direttore arrivano ad un'armonia perfetta come quella del cuore del cervello e dei polmoni in un sano organismo animale ma in fondo il particolare elemento che in tutta questa organizzazione più mi colpì e per mezzo del quale il sistema di diligenze del signor Palmer tirannezza ora i miei sogni con visioni di orrore e di terrifica bellezza sta nell'impressionante missione politica che adempirono a quei tempi fu la diligenza che diffuse sulla superficie della terra come l'aprirsi di apocalittiche fiale gli sconvolgenti annunzi di Trafalgar di Salamanca di Vittoria di Waterloo questi erano i frutti che nella loro grandiosa maturazione riscattavano le lacrime e il sangue in cui erano stati inseminati nemmeno il più umile dei contadini fu mai tanto impari alla grandezza e al dolore dei tempi da confondere battaglie come quelle che andavano gradualmente plasmando i destini della cristianità con i banali conflitti delle solite guerre spesso non altro che gladiatorie esibizioni di prodezza nazionale le vittorie dell'Inghilterra in quella lotta stupenda salivano al cielo come naturali tedeum e chi meditava sentiva che tali vittorie in un tale momento di prostrazione generale non erano infine più utili a noi che alla Francia stessa nostra nemica e ai paesi di tutta l'Europa occidentale e centrale per la cui pusillanimità la dominazione francese aveva prosperato la dirigenza come strumento nazionale per la diffusione di questi avvenimenti decisivi e di si vasta portata si spiritualizzò e glorificò per un animo appassionato e naturalmente nell'Oxford di quei tempi tutti i cuori erano appassionati poiché tutti o quasi erano nella prima virilità nella maggior parte delle università non vi è un solo collegio a Oxford ben erano venticinque tutti frequentati da giovani l'élite della loro generazione non ragazzi ma uomini nessuno al di sotto dei 18 anni in alcuni di questi molti collegi la consuetudine permetteva agli studenti di seguire quelli chiamati corsi abbreviati essi potevano cioè frequentare i quattro corsi di San Michele, Quaresima, Pasqua e Epoca delle tesi di laurea una residenza di 91 giorni o 13 settimane nella comunità con questa interruzione della residenza poteva accadere che uno studente avesse motivi per recarsi a casa sua quattro volte all'anno erano così otto viaggi fra andata e ritorno ma poiché queste case erano sparse in tutte le contee dell'isola e la maggior parte di noi sdegnava tutte le diligenze che non fossero quelle delle poste di sua maestà nessun'altra città all'infuori di Londra poteva pretendere di avere così larghi rapporti con l'organizzazione del signor Palmer come Oxford ricordo almeno tre diligenze che passavano giornalmente per Oxford e godevano del mio favore personale la diligenza di Worcester quella di Gluchester e quella di Olifid era perso naturale per noi che avevamo occasioni di viaggiare in media ogni sei settimane occuparci con un certo interesse dei particolari pratici all'interno del sistema con alcuni di questi particolari il signor Palmer non aveva nulla a che vedere dipendevano dai regolamenti decretati dalle stazioni di posta unicamente a loro beneficio e da altri regolamenti ugualmente inflessibili decretati dai passeggeri nell'interno delle vetture a dimostrazione del loro altezzoso esclusivismo queste ultime norme erano tali da provocare il nostro disprezzo e da questo non ci volle molto per passare a una rivolta sistematica fino allora diciamo 1804-1805 l'anno di Trafalgar i quattro viaggiatori interni della diligenza secondo un'antica tradizione in uso in tutte le vetture pubbliche dal regno di Carlo II avevano presunto sempre di essere loro il quartetto illustre e nell'umana specie una varietà di porcellana la cui dignità sarebbe stata compromessa se avesse scambiato una sola parola di cortesia con i tre miserabili esseri di Terraglia che stavano all'esterno perfino un calcio tirato da uno di costoro sarebbe stato considerato una contaminazione per il piede adoperato in quell'atto e forse ci sarebbe voluta una legge del parlamento per reintegrare la purezza di sangue quali parole potrebbero dunque esprimere l'orrore e il senso di tradimento quando ciò che pur si era verificato i tre esterni la trinità dei paria fecero un vano tentativo per sedersi nella stessa tavola del sacro quartetto io stesso assistetti a un simile tentativo e in quella circostanza un vecchio signore benevolo cercò di placare i suoi sacri compagni insinuando che se gli esterni fossero stati processati dinanzi al più prossimo tribunale per quel criminoso tentativo da corte avrebbe considerato il loro atto più che un tradimento un caso di pazzia o di delirium tremens l'Inghilterra deve molta della sua grandezza alla profondità dell'elemento aristocratico nella sua composizione sociale quando controbilancia la sua forte democrazia non sono certo io a riderne ma è indubbio che talvolta esso si è manifestato in forme comiche il sistema seguito con gli infatuati esterni nel tentativo di cui parlavo fu che il cameriere facendo loro cenno di seguirlo fuori dalla sala manger privilegiata gridò da questa parte brava gente e attirò quella brava gente in cucina ma non sempre questo piano riusciva qualche volta raramente però accadeva che gli intrusi più forti o più maliziosi del solito rifiutassero risolutamente di muoversi e arrivassero sino al punto di far preparare una tavola separata per loro in un angolo della sala comune pure se si poteva trovare un paravento abbastanza ampio per escluderli dalla vista della tavola d'onore o predella diveniva allora possibile immaginare come una finzione legale che quei tre esseri di Terraglia dopo tutto non fossero presenti potevano essere ignorati dagli uomini di Porcellana in base alla massima che gli oggetti invisibili e gli oggetti inesistenti sono retti dalla stessa struttura logica con tali sistemi in uso a quel tempo sulle dirigenze che cosa dovevamo fare noi della giovane Oxford noi i più aristocratici noi che avevamo l'abitudine di guardare dall'alto in basso perfino gli stessi interni come personaggi spesso molto discutibili dovevamo noi metterci volontariamente all'esterno della vettura a tirarci gli insulti se il nostro modo di vestire e il nostro contegno ci salvavano generalmente dal sospetto di essere dei pitocchi nome usato a quell'epoca per snob in realtà eravamo implicitamente tali per il posto che occupavamo anche se non ci rassegnavamo all'ombra profonda dell'eclissi entravamo almeno nei margini della sua penombra era valido contro di noi il confronto con i teatri dove nessuno può lamentarsi degli inconvenienti della platea o della galleria potendo porvi immediatamente rimedio col pagare il maggior prezzo dei palchi ma noi discutevamo la fondatezza di questo confronto nel caso del teatro non si poteva affermare che i posti peggiori avessero qualche attrattiva speciale a meno di non considerare che la platea offra qualche vantaggio ai critici e clonisti teatrali ma il critico o il giornalista è una rarità e per la maggior parte delle persone l'unico vantaggio sta nel prezzo invece l'esterno della dirigenza aveva i suoi vantaggi esclusivi e a questi noi non potevamo rinunciare avremmo pagato volentieri un prezzo più elevato ma non quello stabilito per la condizione di viaggiare all'interno condizione questa che dichiaravamo insopportabile l'aria, la visuale libera, la vicinanza dei cavalli, l'elevatezza del posto era questo che volevamo e soprattutto la certezza di procurarci qualche occasione di guidare tale era la difficoltà che ci stringeva e sotto la spinta di questa difficoltà aprimmo un'accurata inchiesta sulle varie qualità e sul valore dei diversi compartimenti della dirigenza conducemmo l'inchiesta su principi metafisici e fu accertato che il tetto della dirigenza da alcuni deficienti chiamato lattico ed alcuni altri la soffitta era in realtà il salotto nel quale salotto la cassetta era l'ottomana o il divano principale mentre risultava che l'interno della dirigenza tradizionalmente considerato l'unico spazio adatto ai gentiluomini era in realtà i grandi ingegni si incontrano non molto tempo prima l'identica idea aveva colpito il celeste intelletto della Cina fra i doni recati dalla nostra prima ambasceria in quella nazione figurava una vettura di gala era stata scelta con particolare cura come dono personale di Giorgio III ma il preciso modo di servirsene rimaneva per Pechino un profondo mistero in verità l'ambasciatore aveva dato qualche sommaria spiegazione in proposito ma poiché Sua Eccellenza aveva comunicato queste cose in un accenno diplomatico al momento della sua partenza il celeste intelletto ne era stato assai debolmente illuminato e fu necessario convocare un consiglio di gabinetto per decidere sulla grave questione di stato dove doveva prendere posto l'imperatore la qual trappa del cocchiere era insolitamente sfarzosa e parte in considerazione di questo fatto ma parte anche perché la cassetta offriva il posto più elevato più vicino alla luna e si trovava innegabilmente innanzi a tutto il resto fu deciso per acclamazione che la cassetta era il trono imperiale e in quanto al miserabile che doveva guidare si sarebbe seduto ovunque avesse trovato da pollaiarsi perciò, guardati i cavalli, Sua Maestà Imperiale ascese solennamente al suo nuovo trono inglese tra un clangore di trombe avendo alla destra il ministro del tesoro e alla sinistra il primo buffone di corte Pecchino si inorgoglì a quello spettacolo e in tutto il cerimonioso popolo virtualmente presente nelle rappresentanze vi fu una sola persona scontenta il cocchiere questo individuo ribelle gridò audacemente e io? Dove devo sedermi? ma il consiglio privato esasperato dalla sua infedeltà aprì come un sol uomo la porta e lo cacciò a calci dentro la carrozza tutti i posti interni erano per lui ma tale è la cupidicia dell'ambizione che egli non fu ancora contento dico, gridò in un'estemporanea petizione rivolta all'imperatore attraverso il finestrino dico, come faccio a prendere le redini? in qualsiasi modo fu l'imperiale risposta non disturbarmi nella mia gloria come prendere le redini? ma attraverso i finestrini attraverso i buchi della serratura in qualsiasi modo finalmente questo cocchiere riottoso prolungò i cordoni di chiamata in una specie di redini posticce comunicanti coi cavalli in questa maniera gli guidò con la regolarità che Pechino aveva tutti i diritti di attendersi l'imperatore fece il ritorno dopo un giro brevissimo e discese in gran pompa dal suo trono irremovibilmente deciso a non salirvi mai più fu ordinato a un pubblico ringraziamento per essere sua maestà felicemente scampata al fastidio di rompersi il collo e la vettura di gala fu dall'ora in poi consacrata come offerta votiva al dio Fofò che le persone colte chiamano più esattamente Fifi una rivoluzione dello stesso genere di quella cinese fu effettuata dalla giovane Oxford di quell'epoca nell'ordinamento sociale dei frequentatori di diligenze fu una vera e propria rivoluzione francese e noi avevamo ben ragione di dire Saire infatti divenne ben presto anche troppo popolare il pubblico un ben noto personaggio particolarmente sgradevole sebbene degno di un certo rispetto e conosciuto per aspirare ai primi posti nelle sinagoge si era dapprima opposto a gran voce a questa rivoluzione ma quando la sua opposizione si dimostrò inefficace il nostro spiacevole amico vi si tuffò dentro a capofitto dapprima fu una semplice gara fra noi e siccome il pubblico oscilla fra i trenta e i cinquant'anni era naturale che noi della giovane Oxford che ne avevamo in media venti ottenessimo il vantaggio ma poi il pubblico cominciò a corrompere gli stallieri che diedero a Nolo le loro persone come scaldini sui posti a cassetta questo voi lo capite feriva tutti i sentimenti morali ricorrete alla corruzione dicevamo noi e tutte le morali saranno finite quella di Aristotele di Zenone di Cicerone o di ogni altro e poi a chi serviva poiché anche noi ricorrevamo alla corruzione e siccome le nostre mance stavano a quelle del pubblico come cinque sceldini stanno a sei pence anche qui la giovane Oxford ebbe il vantaggio ma questa lotta fu rovinosa per i principi morali delle scuderie connesse col servizio delle diligenze tutta questa corporazione era continuamente corrotta ricorrotta e spesso surricorrotta il cortile di una stazione di posta sembrava una piattaforma elettorale durante un'elezione contesa uno stalliere un garzone o un aiuto di stalla era considerato dalle persone di quel tempo incline alla filosofia come il personaggio più corrotto della nazione il pubblico aveva l'impressione abbastanza naturale data alla velocità sempre crescente delle diligenze ma in realtà del tutto errata che il sedile esterno su questo genere di vetture fosse un posto pericoloso io sostenevo invece che se alcuno turbato da qualche predilezione fattagli nell'infanzia o da una zingala che assegnava ad una luna ormai prossima un pericolo sconosciuto avesse chiesto ansiosamente dove posso correre a ripararmi il rifugio più sicuro è una prigione o un manicomio o il museo britannico gli avrai risposto o no ti darò io quel che devi fare prendi dimora per i prossimi 40 giorni sulla cassetta di una diligenza postale lì nessuno potrà toccarti se ciò che ti rende infelice sono le cambiali a 90 giorni data se notai e usceri sono immiserabili le cui ombre astrologiche oscurano la casella della tua vita allora prendi nota di ciò che io decisamente affermo e cioè che anche se lo sceriffo o il sottosceriffo di ogni contea ti inseguissero con tutto il suo corpo di guardia egli non potrà torcerti un capello del capo finché tu avrai dimora ed eleggerai il tuo domicilio legale sulla cassetta della diligenza è un reato fermare la diligenza nemmeno lo sceriffo può farlo è una frusta di più ai cavalli di testa se sfiorerà anche lo sceriffo non sarà gran male garantirà in ogni momento la tua sicurezza in realtà una camera da letto in una casa tranquilla sembra un rifugio abbastanza sicuro eppure va soggetta ai suoi ben noti fastidi ai ladri di notte ai topi al fuoco ma la diligenza se la rida di questi terrori per i ladri la risposta è confezionata e bella e pronta per la consegna nella canna del trombone della guardia e i topi non ve ne sono nelle diligenze più di quanti non vi siano serpenti nell'isola di Fontroil eccettuato a dire il vero un topolino ben educato di tanto in tanto che nasconde sempre la sua vergogna in quella che è come ho già dimostrato la cantina del carbone e in quanto al fuoco una sola volta ne vidi su una diligenza fu sulla dirigente di Exeter e ne fu cagione a un ostinato marinaio diretto ad Evenport Giacomino infischiandosene delle leggi e dei legislatori che avevano severamente contemplato la sua infrazione volle ad ogni costo sedersi in uno dei posti vietati nella parte posteriore del tetto da dove poteva scambiare quattro chiacchiere con la guardia inflazione più grave non si conosceva allora sulle diligenze era tradimento era l'esa maiestas era farsi tendenzialmente incendiario e la cenere della pipa di Giacomino cadendo sulla paglia del sedile posteriore che conteneva i sacchi di post suscitò una fiamma che alimentata dal vento della nostra corsa minacciò una rivoluzione nella Repubblica delle Lettere pure anche questa lasciò inviolata la santità della cassetta indignitosa tranquillità il cocchiere ed io ce ne restammo seduti fidando con benigna calma nella consapevolezza che il fuoco per giungere fino a noi doveva farsi strada attraverso quattro viaggiatori interni io feci notare al cocchiere con una citazione in verità un po' trita dall'Eneide di Virgilio Iam proximus Ardet Ucalegon ma ricordandomi che nell'educazione del cocchiere la parte virgiliana era stata forse trascurata parafrasai dicendo che forse in quel momento le fiamme lambivano il nostro degno fratello nonché passeggero interno Ucalegon il nocchiere non rispose cosa che faccio anch'io quando uno straniero mi rivolge la parola in siriano o in copto ma col suo vago sorriso ironico egli pareva insinuare che la sapeva lunga cioè si dava il caso che quel Ucalegon non figurava nella lista dei passeggeri e quindi non poteva aver fatto il biglietto nessuna dignità può essere perfetta se ad un certo momento non si allea col mistero il legame che univa la diligenza allo Stato e all'autorità costituita legame evidente ma pure non esattamente definito conferiva a tutta l'organizzazione delle dirigenze postali una grandiosità ufficiale che c'era utile sulle strade e ci investiva di un opportuno potere di incutere terrore e questi terrori non erano meno efficaci per essere i loro limiti legali imperfettamente stabiliti guardate i cancelli di quel passaggio con che deferente precipitazione con che slancio obbediente si spalancano al nostro avvicinarsi guardate quella lunga fila di carrozze e cocchieri lì davanti che usurpano sfacciatamente il centro della strada ah traditori non ci hanno udito ancora ma non appena il suono terrificante del nostro corno giunge a loro proclamando il nostro arrivo guardate con quale frenetica trepidazione essi volano alla testa dei loro cavalli ed precano la nostra collera spingendo con precipitazione verso l'orro della strada il collo di cigno dei loro veicoli si sentono colpevoli di tradimento ogni carrettiere si sente minacciato di confisca e di pena capitale la sua discendenza è messa al bando per sei generazioni e a compiere la visione di orrore non manca che il carnefice con la scure il ceppo e la segatura e che sarà ammesso al beneficio che condona la vita ai non illetterati chi fa ritardare il messaggio del re sulla strada maestra chi interrompe il grande respiro il flusso e riflusso la sistole e diastole delle comunicazioni nazionali chi lede la sicurezza delle notizie che giorno e notte volano fra tutte le nazioni in tutte le lingue e si può mai pensare anche dal più arrendevole degli uomini che i corpi di questi criminali siano resi alle vedove per ricevere sepoltura cristiana i dubbi che sorgevano sui nostri poteri avviluppandoli nell'incertezza contribuivano ad avvilupparli nel terrore più di quel che avrebbero fatto le più nette precisazioni di un tribunale trimestrale di Contea noi da parte nostra voglio dire noi diligenza collettivamente facevamo il possibile per tenere alta l'idea dei nostri privilegi con l'insolenza che usavamo verso gli altri sia che tale insolenza si fondasse sulla legge e ne fosse sanzionata o sopra una forza consapevole di sé che altezzosamente faceva meno di quella sanzione sempre essa parlava da una posizione predominante e in ogni caso particolare l'insolente era guardato con reverenza come chi possiede autorità talvolta dopo colazione la diligenza diventava vispa e nel difficile aggirarsi tra i meandri dei mercati mattutini rovesciava un carretto di mele o un carretto carico di uova e così via il dispiacere e la costernazione erano immensi il disastro spaventevole in simili casi io mi sforzavo di esprimere per quanto mi era possibile la coscienza e i sentimenti morali della diligenza e quando una desolante distesa di uova sfranate giaceva sotto gli zoccoli dei cavalli aprivo le braccia addolorate dicendo con parole rese allora troppo celebri da falsi ecchi di marengo ah perché mai non abbiamo il tempo di piangere su di voi ciò che evidentemente era impossibile dato che in realtà non avevamo il tempo per ridere di loro legata all'orario stabilito dagli uffici postali che in alcuni casi era di 50 minuti per 11 miglia poteva la dirigenza pretendere di assumere incarichi di solidarietà e di condoglianza che si poteva aspettare che fornisse lacrime per gli incidenti della strada se anche poteva sembrare che calpestasse così il sentimento di umanità io sentivo che lo faceva per adempiere ai suoi più perentori doveri sostenendo la moralità della dirigenza a forziori che sostenevano i diritti mi sentivo in obbligo di estendere al massimo il suo privilegio di imperiale precedenza e stupivo gli sciocchi con l'autorità feudale che insinuavo si celasse virtualmente negli statuti di quella grandiosa organizzazione ricordo che una volta mi trovavo a cassetta della diligenza di Olichid fra Suresbustry e Oswestry quando un pomposo arnese proveniente da Birmingham un certo taglio o Haigflyer che si poponezzava tutto in verde e oro venne al nostro fianco che contrasto fra quel miserabile plebeo e la nostra regale semplicità di forma e di colore l'unico ornamento sul nostro fondo scuro color cioccolata era l'onnipotente stemma con le armi imperiali ma disegnato in proporzioni modeste come ed un sigillo da anello in confronto a un timbro d'ufficio e anche questo non figurava che su uno degli sportelli abbi spigliare più che proclamare i nostri rapporti con la potenza dello Stato mentre quel brutto di Birmingham e il nostro amico verde oro della falsa effime la spergiura Brummagem aveva tante iscrizioni e pitture sui suoi fianchi traboccanti da mettere nell'imberazzo un decifratore delle tombe di Luxor per un po' di tempo quell'ordigno di Birmingham trottò al nostro fianco atto di familiarità che mi parve in sé già abbastanza giacobino ma all'improvviso un movimento dei cavalli annunciò un disperato proposito di lasciarci indietro lo vedete disse al cocchiere vedo fu la sua breve risposta e gli stava allerta pure attese più di quanto non sembrasse prudente già che i cavalli del nostro augace avversario avevano una spiacevole aria di freschezza e vigore ma il motivo del nostro cocchiere era leale voleva che l'intenzione di quello di Birmingham fosse ben chiara prima di gelarla sul nascere quando essa sembrò palese egli bis in azione o per usare un termine più forte fece scattare le sue note risorse sfrenò i nostri regali cavalli come ghepardi o leopardi da caccia dietro la selvaggina terrorizzata come potesse avere ancora in riserva tanta focosa forza dopo il lavoro che aveva compiuto sembrava difficile da spiegare ma avevamo dalla nostra oltre alla superiorità fisica un baluardo di forza morale il nome del re che mancava a quelli della fazione avversa sorpassandoli senza sforzo apparente li lasciamo indietro a una distanza così grande da noi che era di per sé la più amara canzonatura della loro presunzione mentre la nostra guardia lanciava verso di loro un lacerante suono di trionfo che era in verità troppo penosamente carico di derisione ho accennato a questo piccolo incidente per il suo onesso con ciò che seguì un contadino gallese seduto dietro a me mi chiese se non avessi sentito il cuore di vamparmi durante lo svolgersi della corsa risposi con calma filosofica no perché non eravamo in gara con un'altra diligenza postale e non se ne poteva perciò trarre nessuna gloria era infatti abbastanza mortificante che quell'arnese di Birmingham avesse osato sfidarci il gallese rispose che ciò non lo persuadeva un gatto può ben guardare un re e un legno di Brumbagem può legittimamente cimentarsi con la dirigenza di Olichid cimentarsi con noi se volete risposi sebbene anche in questo ospiri un'aria di sedizione ma non batterci sarebbe stato un tradimento e anche per il suo bene sono contento che quel taglio sia rimasto deluso il gallese sembrò così insoddisfatto di questa opinione che alla fine fu costretto a raccontargli un bellissimo aneddoto di un nostro antico drammaturgo una volta in un lontano regno d'oriente mentre il sultano di quella terra i suoi grandi le sue dame i suoi principi musulmani stavano cacciando coi falchi un falco assalì improvvisamente una maestosa aquila sfidandone i vantaggi naturali e disprezzandone la tradizionale regalità e alla presenza di tutti i meravigliati spettatori venuti da Agra e Lahore la uccise sull'istante il sultano fu preso da stupore per quell'impari lotta e da ardente ammirazione per il suo inaudito esito comandò che il falco fosse portato al suo cospetto lo carezzò con entusiasmo e ordinò che a celebrazione del suo impareggiabile coraggio gli fosse posto solennemente sul capo un diadema d'oro e di rubini ma che poi subito dopo questa solenne incoronazione fosse condotto a morte come il più valoroso dei traditori sì ma pur sempre un traditore per aver osato ribellarsi al suo signore e consacrato sovrano l'aquila ora dissi al gallese quanto sarebbe stato penoso per voi e per me uomini di delicata sensibilità che il taglio quel povero bestione di brummagem nel caso impossibile di una vittoria su di noi fosse incoronato con l'orpello di birmingham con diamanti falsi e perle romane e poi condotto a immediata morte il gallese mise in dubbio che la legge avrebbe autorizzato tutto ciò e quando io accennai al sesto di eduardo gambe lunghe capo 18 sulla precedenza delle vetture come allo statuto su cui probabilmente ci si doveva basare per la punizione capitale di simili offese mi rispose secco che se il tentativo di oltrepassare una diligenza rappresentava davvero un tradimento era allora da deplorare che il taglio sembrasse avere una conoscenza così imperfetta della legge i moderni modi di viaggiare non possono paragonarsi per grandiosità e potenza con l'antico sistema delle diligenze si vanta tanto la cresciuta rapidità non però come percezione diretta ma come un fatto della nostra conoscenza passiva che poggia o su una prova a noi estranea come per esempio quando qualcuno dice che abbiamo percorso 50 miglia in un'ora sebbene siamo lontani dal sentirlo come un'esperienza personale oppure sulla prova di un risultato come il trovarsi effettivamente a York quattro ore dopo aver lasciato Londra all'infuori però da una tale affermazione o da un tale risultato io mi accorgo appena della rapidità ma seduti invece su una vecchia diligenza non ci occorrevano prove a noi estranei per dircene la velocità con quel sistema la parola d'ordine non era magna loquimur come per la ferrovia ma vivimus sì magna vivimus noi non ostentiamo la nostra grandezza a parole la nostra grandezza noi la realizziamo in atto e nell'esperienza stessa della vita la sensazione viva delle felici percezioni fisiche non lasciava dubbi sulla nostra velocità la nostra velocità la udivamo la vedevamo la sentivamo come un fremito ed essa non era prodotta da strumenti ciechi e insensibili che non potevano ispirare simpatia ma era incarnata nelle focose pupille del più nobile degli animali nelle sue froge dilatate nei suoi muscoli contratti nei suoi zoccoli tonanti la sensibilità del cavallo che si esprimeva nello splendore allucinato dei suoi occhi poteva essere l'ultima vibrazione di quella velocità la gloria di salamanca poteva esserne la prima ma il legame intermedio che li univa tra loro che gettava lo scompiglio della battaglia nell'occhio del cavallo era il cuore dell'uomo coi suoi elettrici fremiti acceso nell'entusiasmo dell'ardente lotta e che propagavano il suo tumulto con grida gesti contagiosi al cuore del suo servitore il cavallo ora invece col nuovo modo di viaggiare i tubi di ferro e le caldaie hanno staccato il cuore dell'uomo dai ministri della sua locomozione né il nilo né trafalgar hanno il potere di suscitare una bolla di più in una caldaia a vapore quel ciclo galvanico è interrotto per sempre la natura dominatrice dell'uomo non più si muove per mezzo dell'elettrica sensibilità del cavallo le azioni reciproche se ne sono andate con la comunione del cavallo e il suo signore dalla quale nascevano tanti aspetti di sublimità da incidenti di nebbie che nascondevano o di improvvisi fuochi che rivelavano di folle che citavano o di solitudini nel cuore della notte che ispiravano timore notizie atte a sconvolgere tutte le nazioni devono viaggiare d'ora in poi con sistemi culinari e la tromba che un tempo annunziava da lontano la diligenza inghirlandata dall'oro così commovente quando la si udiva a gridare nel vento e annunciarsi nel buio ad ogni villaggio ad ogni solitaria dimora lungo il suo cammino ha ora ceduto il posto per sempre al brontolio della caldaia così si sono perdute le molteplici vie in cui si esprimeva con teatralità eppure con naturalezza il pubblico interessamento per le grandi notizie nazionali e si rivelavano aspetti e gruppi che non potrebbero offrirsi tra le folle fluttuanti di una stazione ferroviaria i crocchi di curiosi intorno alla dirigenza inghirlandata avevano un solo centro e si riconoscevano in un unico interesse ma le folle in una stazione ferroviaria sono fluide come acqua corrente e hanno tanti centri quanti sono i vagoni del treno in quale altro modo per esempio se non come assidua aspettatrice dell'alba e del passaggio della dirigenza per Londra che nei mesi d'estate si addentrava allo spuntar del giorno tra le macchie erbose della foresta di Malborug avresti tu potuto dolce Fanny della strada di Bat di venire l'ospite radiosa dei miei sogni eppure Fanny come la fanciulla più graziosa nel viso e nella persona che io abbia forse mai incontrato in tutta la mia vita meritava il posto che ancora oggi a quarant'anni di distanza occupa nei miei sogni sì sebbene per naturale associazione e la porti con sé una frotta di creature orribili favolose e non favolose al mio cuore più invise di quanto Fanny e l'aurora non siano piacevoli la signorina Fanny della strada di Bat abitava per essere precisi a un miglio di distanza da quella strada ma così spesso veniva incontro alla dirigenza che nei miei frequenti viaggi tirado mi accadeva di non incontrarla e la sua immagine era naturalmente collegata alla grande strada il solo posto dove l'avessi veduta perché ci venisse con tanta puntualità non lo so bene ma credo portasse un certo numero di commissioni per Bat che convergevano verso la sua casa come un centro di raccolta il cocchiere che guidava la dirigenza di Bat e portava la livrea reale era il nonno di Fanny un braguomo che amava la bella nipotina e amandola saggiamente sorvegliava il suo contegno ogni volta che c'era di mezzo un giovane di Oxford fu allora la vanità a farmi credere che anch'io personalmente facessi parte dei suoi terrori per quanto si riferisce ad ogni pretesa fisica che io potessi far valere no di certo e che Fanny contava il suo seguito come mi disse una volta un passeggero dei suoi dintorni incontrato per caso 199 ammiratori dichiarati se non proprio palesi aspiranti alla sua benevolenza e probabilmente dell'intera brigata non vi era nessuno che non mi superasse in pregi della persona perfino Ulisse con lo sleale vantaggio del suo detestabile arco avrebbe appena potuto cimentarsi con un tal numero di ammiratori il pericolo poteva dunque sembrare trascurabile se non che la donna è sempre aristocratica è una delle sue nobiltà di cuore questa ora la distinzione aristocratica a mio favore avrebbe potuto facilmente compensare per la signorina Fanny le mie deficienze fisiche dunque facevo la corte a Fanny ma certo quasi tutte le corte che si può fare mentre la dirigenza cambia i cavalli operazione che dieci anni più tardi non occupava più di 80 secondi ma che allora cioè circa all'epoca di Waterloo richiedeva cinque volte tanto ora 400 secondi offrono un campo più che sufficiente per sussurrare all'orecchio di una giovane donna molte verità e tra parentesi qualche briciolo di falsità il nonno aveva dunque ragione di sorvegliarmi eppure come accade troppo spesso ai nonni della terra in lotta con gli ammiratori delle nipotine quanto sarebbe stata vana la sua sorveglianza se avessi meditato di sussurrare a Fanny brutte cose è mia convinzione che la si sarebbe difesa benissimo da sé contro i cattivi suggerimenti di qualsiasi uomo ma lui non avrebbe potuto evitare come i risultati dimostrano le occasioni propizie a quei suggerimenti perché mai non era zelante non era in florido stato era florido quanto Fanny stessa dimmi perché i signori tutte le nostre lodi ferma non è questo il verso dimmi perché soltanto le fanciulle tutte dovriano aver le nostre rose il cocchiere mostrava sul viso una rosea fioritura ancor più accesa di quella della nipote lui la attingeva al barile di birra Fanny alle sorgenti dell'aurora ma nonostante il suo florido viso qualche infermità egli l'aveva e in particolare una che lo rendeva fin troppo simile a un coccodrillo consisteva in una anormale incapacità di voltarsi indietro immagino che il coccodrillo debba questa sua caratteristica all'assurda lunghezza del suo dorso ma nel nostro nonnino derivava piuttosto dall'assurda lunghezza della sua schiena unita forse a un certo irrigidimento incipiente delle gambe su questa sua infermità da coccodrillo io fondai un umano vantaggio per presentare i miei omaggi alla signorina Fanny sfidando la sua onorevole sorveglianza non appena ci aveva voltato il suo possente d'orso da Giove che campo per sfoggiare dinanzi all'umanità il suo regale scarlatto e spezionava con occhio critico le fibbie e le cinghie e i passanti argenti dei suoi finimenti mi portavo alle labbra la mano della signorina Fanny e col misto di tenerezza e rispetto dei miei modi ne facevo comprendere facilmente quanto sarei stato felice di collocarmi almeno al numero dieci o dodici della sua lista in tal caso qualche incidente fra i suoi innamorati e notate che a quei tempi si impiccava generosamente avrebbe potuto innalzarmi presto fino alla cima dell'albero e con quanta leale sottomissione d'altra parte accettavo in anticipo il suo giudizio nel caso che ella mi assegnasse proprio alla retroguardia della sua benevolenza come il numero centonovantanove più uno non amavo molto sinceramente quella fanciulla bella ed ingenua e se non fosse stato per la diligenza di Bat che regolava i miei corteggiamenti sugli orari degli uffici postali solo il cielo sa che avrebbe potuto nascere la gente parla di essere invescato in un amore fino ai capelli e fino agli occhi la diligenza fu cagione che io mi invescassi nell'amore soltanto fino agli occhi ciò che come sapete lascia ancora un briciolo di cervello per sorvegliare l'andamento della faccenda oh lettore quando ripenso a quei giorni mi sembra che tutto cambi che tutto perisca periscono le rose e le palme dei re periscono perfino le corone e i trofei di Waterloo i tuoni e i lampi non sono più i tuoni e i lampi che ricordo io le rose stanno degenerando i fannini della nostra isola e questo dico con riluttanza non migliorano visibilmente la strada di Batta è notoriamente fuori uso i coccodrilli direte voi sono sempre gli stessi il signor Waterton mi dice che i coccodrilli non cambiano che infatti un caimano o un alligator può servire da cavalcatura esattamente come ai tempi dei faraoni questo può essere ma la ragione è che il coccodrillo non vive intensamente è una vettura lenta se non erro è risaputo tra i naturalisti che il coccodrillo è balordo secondo la mia impressione anche i faraoni erano balordi ora siccome i faraoni e i coccodrilli signoreggiarono la società egiziana si spiega il singolare equivoco che per innumerevoli generazioni prevalse sulle sponde del nilo il coccodrillo commise il ridicolo errore di credere che l'uomo fosse destinato soprattutto a servirgli da cibo l'uomo vedendo la cosa da un lato diverso a quell'errore ne oppose un altro considerò il coccodrillo come cosa da adorare qualche volta ma da sfuggire sempre e questo continuò finché il signor Waternoon mutò i rapporti fra i due animali e gli dimostrò che il modo migliore per sfuggire al rettile non è di darsela gambe ma di saltargli sul dorso con stivali e speroni i due animali non si erano compresi ora l'uso del coccodrillo è stato chiarito è fatto per servire da cavalcatura e il fine ultimo dell'uomo è quello di poter migliorare la salute del coccodrillo cavalcandolo per una caccia alla volpe prima di colazione ed è quasi certo che un coccodrillo condotto regolarmente a caccia per tutta una stagione e padrone del peso che porta salterà oggi un cancello chiuso a sei sbarre come avrebbe fatto all'epoca dell'infanzia delle piramidi se dunque i coccodrilli non cambiano tutte le altre cose cambiano inesorabilmente perfino l'ombra delle piramidi rimpicciolisce e spesso ricostruire nella visione di Fanny e la strada di Bath mi rende troppo sentimentalmente convinto di questa verità se mi accade di rievocare dalle tenebre l'immagine di Fanny ecco sorgere improvvisa da un abisso di 40 anni una rosa di giugno oppure se penso per un istante alla rosa di giugno ecco sorgere il viso celestiale di Fanny di una dopo l'altra come le antifone del servizio divino solgono dinanzi a me Fanny e la rosa di giugno e poi da capo la rosa di giugno e Fanny poi vengono insieme come in un coro rose e Fanny Fanny e rose senza fine fitte come i fiori in paradiso viene poi un venerabile coccodrillo in livrea scarlata e oro con 16 mantelline e il coccodrillo guida un tiro a 4 dalla cassetta della diligenza di Bath e noi della diligenza siamo a un tratto fermati da una meridiana possente su cui sono scolpite le ore e che si confonde col cielo e con le coorti degli astri poi all'improvviso siamo arrivati nella foresta di Malboro fra le graziose famigliuole dei caprioli insieme ai suoi piccoli il capriolo si rifugia nei cespugli rugiadosi e i cespugli sono ricchi di rose ancora una volta le rose richiamano la dolce sembianza di Fanny ed ella come nipote di un coccodrillo suscita un esercito spaventoso di animali semileggendari grifi dragoni basilischi sfingi finché l'intera visione di immagini contrastanti si fonde in un torreggiante stemma gentilizio in un vasto blasone in cui sono araldicamente raffigurate con aspetti indescrivibili e demoniaci quella carità e gentilezza umane che sono andate perdute mentre si age su tutto a guisa di cimiero una bella mano femminile con l'indice rivolto in dolce doloroso ammonimento verso il cielo dove è scolpita l'eterna iscrizione che proclama la fragilità della terra e dei suoi figli in marcia con la vittoria ma fra tutte le esperienze che ci procurò nel suo insieme il servizio postale il capitolo più grandioso era formato dalle occasioni in cui partivamo da Londra con la notizia di una vittoria da Trafalgarra a Waterloo trascorse un periodo di circa dieci anni il secondo e il terzo anno di questo periodo 1806 1807 furono relativamente sterili ma gli altri nove dal 1805 al 1815 incluso segnarono un lungo succedersi di vittorie la minore delle quali aveva in quella lotta di titani un inestimabile valore parte perché scompigliava interamente i piani del nostro nemico ma ancor più perché teneva vivo in tutta l'Europa centrale il senso di un'intima vulnerabilità della Francia perfino il disturbare il nemico il mortificarlo con i continui blocchi l'insultarlo catturando sia pure a una goletta da nulla sotto gli occhi delle sue arroganti armate rinnovava di tanto in tanto l'inesorabile annunzio della potenza insita in quello dei contendenti cui si rivolgevano in segreto le speranze della cristianità e quanto più forte dovette esprimersi questo annunzio nell'audacia di affrontare l'elite delle loro truppe e di sconfiggerle in aperta battaglia cinque anni di vita si sarebbero dati per il privilegio di avere un posto a cassetta in una diligenza che portasse il primo annunzio di uno di questi eventi e si noti che per la nostra posizione insulare e il gran numero di fregate di cui disponevamo per trasmettere con rapidità le informazioni di rado accadeva che qualche voce non autorizzata facesse furtivamente pregustare il primo profumo dei dispacci ufficiali la prima notizia era in genere la notizia del governo immaginate dalle otto di sera per quindici o venti minuti le diligenze riunite in parata in Lombard Street poiché ivi e non in Saint Martin Le Grand si trovava a quel tempo l'ufficio della posta centrale quali forze riunissimo non ricordo esattamente ma per la lunghezza delle mute occupavano tutta la strada sebbene fosse lunga e fossimo allineati in fila doppia in qualsiasi cerata lo spettacolo era magnifico assoluta perfezione di tutti gli equipaggiamenti sia delle vetture che dell'arnese la loro solidità la lucente forbitezza la bella semplicità ma più di tutto la regolare magnificenza dei cavalli era ciò che poteva dapprima fermare l'attenzione ogni mattina dell'anno tutte le vetture venivano portate a un ispettore ufficiale per essere esaminate ruote assi acciarini timoni vetri fanali tutto era criticamente osservato e provato ciascun mezzo di ciascuna vettura era stato pulito e ciascun cavallo era stato governato con altrettanta cura che se appartenessero a un privato questa parte dello spettacolo si poteva ammirare sempre ma quella che abbiamo dinanzi a noi è una notte di vittoria e guardate quale commovente aggiunta allo sfoggio abituale cavalli uomini vetture tutto è ornato di lauro e di fiori di foglie di quersa e di nastri le guardie di scorta che sono ufficialmente al servizio di sua maestà e quelli tre cocchieri che fanno parte dell'ufficio postale indossano naturalmente le uniformi reali e siccome è estate poiché si capisce le vittorie di terra furono tutte conseguite d'estate portano in questa bella serata l'uniforme bene in vista senza nessun sopravvito questa uniforme e i complicati ornamenti di alloro sui capelli li rallegrano dando loro un nesso personale con la grande notizia per la quale hanno già l'universale interesse del patriottismo questo grande sentimento nazionale supera e soggioga il senso delle distinzioni abituali tra i passeggeri i gentiluomini si distinguerebbero appena se non fosse per l'abito poiché l'abituale riservo dei loro modi nel rivolgersi ai subalterni questa sera si è dileguato un solo cuore un solo orgoglio una sola gloria riuniscono tutti gli uomini col supremo vincolo del sangue nazionale gli spettatori numerosi come non mai esprimono con comuni e viva la loro partecipazione a questi fervidi sentimenti ad ogni momento gli impiegati postali gridano a gran voce affinché la diligenza venga ad allinearsi i grandi nomi aviti di città note alla storia da mille anni Lincoln Winchester Postmouth Glacester Oxford Bristol Manchester York Newcastle Edimburgo Glasgow Perth Stirling Aberdeen rendendo manifesta la grandiosità dell'impero con la vastità dei suoi centri e la grandiosità del servizio postale col diffuso e raggiarsi delle sue diverse mete ad ogni momento si sente il colpo dei coperchi chiusi sui sacchi di posta per ogni vettura questo suono è il segnale della partenza che è la parte più bella di tutto lo spettacolo entrano allora in gioco i cavalli cavalli sono cavalli questi che si lanciano con atti e movenze da leopardi che animazione che oceanico fermento che tuono di ruote che scalpitare di zoccoli che squilli di trombe che grida da dio che raddoppiato clamore di fraterne congratulazioni che congiunge il nome di una diligenza e viva Liverpool con il nome di una vittoria e viva Bayados e viva Saramanca la confusa nozione che per tutta la notte e per tutto il giorno seguente e forse per un tempo ancora più lungo molte di queste diligenze come fuoco che corre a lungo una striscia di polvere da sparo accenderanno ad ogni momento rinnovate manifestazioni di gioia ardente ha l'inavvertito effetto di moltiplicare la vittoria stessa moltiplicando all'infinito nell'immaginazione gli stadi della sua divulgazione progressiva sembra scoccata una freccia di fuoco destinata da questo momento a viaggiare ad ovest per 300 miglia a nord per 600 e la solidità coi nostri amici di Lombard Street al momento di separarci è esaltata al centruplo da una specie di solidarietà immaginata con tutte le altre ancora latenti che stiamo per vestare in si lunga successione liberi dagli intralci della città e usciti nei viali larghi affollati dai sobborghi settentrionali cominciamo ben presto a prendere la nostra andatura normale di 10 miglia all'ora nella piena luce della serata estiva col sole col sole proprio sul punto di tramontare possono vederci da ogni piano di ogni casa volti di tutte le età si affollano alle finestre giovani e vecchi comprendono il linguaggio dei nostri simboli di vittoria e dilaganti ondate di applausi solidali ci accompagnano ci seguono ci precedono il mendicante sollevandosi contro il muro dimentica la sua infermità vera o simulata dimentica il suo lamentoso mestiere e sta ritto al nostro passaggio con un franco sorriso d'esultanza la vittoria lo ha guarito e gli dice sii sano donne e bimbi dagli abbaini come dalle cantine per la sterminata londra abbassano levano sguardi affettuosi sui nostri allegri fiocchi e sui nostri lauri marziali talvolta ci mandano baci talaltra addobbano le finestre in segno d'affetto con fazzoletti grembiali strofinacci e qualsiasi altra cosa che muovendosi alla brezza estiva esprima un aereo giubilo a barnet cui ci avviciniamo pochi minuti dopo le nove osservate sulla strada verso londra quella carrozza padronale che s'avanza fa caldo i vetri sono abbassati e si può distinguere come sul palcoscenico di un teatro tutto ciò che si svolge all'interno vi sono tre signore una è verosimilmente la mamma e due di 17 e 18 anni sono probabilmente le figlie che amabile animazione che bella pantomima improvvisata che ci fa comprendere ogni sillaba scambiata tra quelle ingenue fanciulle dal ciussulto improvviso a levar delle mani al primo apparire del nostro equipaggio inghirlandato dal loro subito movimento di richiamo verso la signora e dal colore più acceso dei loro volti animati mi sembra quasi di udirle dire vedi vedi guarda quegli allori oh mamma c'è stata una grande battaglia in Spagna ed è stata una grande vittoria di lì a un momento stiamo per incrociarle noi passeggeri io a cassetta e gli altri due sull'imperiale dietro a me salutiamo le signore togliendoci il cappello il cocchiere fa il suo saluto professionale con la frusta perfino la guardia che pure come funzionario della corona è molto formalista in fatto di dignità si tocca il cappello le signore ci fanno cenne in risposta con una grazia avvincente di gesti tutti ci sorridiamo a vicenda in un modo che nessuno potrebbe fraintendere e che soltanto una grande solidarietà nazionale potrebbe ispirare così istantaneamente diranno quelle signore che noi siamo nulla per loro o no non diranno questo non possono negare e non negano che esse sono per questa notte le nostre sorelle nobili o prebee colte o serve letterate per le prossime dodici ore noi esterni abbiamo l'onore di essere i loro fratelli e quelle povere donne che si fermano a guardarsi con gioia all'entrata in Barnet e sembra dall'aspetto stanco che tornino al lavoro volete dire che sono lavandaie o donne di servizio oh mio povero amico siete proprio in errore vi assicuro che quelle donne appartengono a un rango ben più elevato per questa notte esse sentono di essere per diritto di nascita figlie d'Inghilterra e non rispondono a nessun titolo più umile ma ogni gioia anche la gioia più sublime tale è la triste legge di questa terra può recare sofferenza a qualcuno o timore di soffrire a Tremiglio o altre Barnet vediamo avanzare verso di noi un'altra carrozza privata per la quale si ripetono quasi le stesse circostanze del primo caso anche qui i vetri sono tutti abbassati anche qui è seduta una signora anziana mancano però le due figliuole la sola persona giovane seduta accanto alla signora sembra essere una dama di compagnia così almeno io la giudico dall'abito e dall'aria di rispettoso riservo la signora è in lutto e il suo volto esprime dolore da prima ella non alza lo sguardo tanto che credo non si accorga di noi finché non sente i colpi cadenzati degli zoccoli dei cavalli allora leva gli occhi per posarli con tristezza sul nostro equipaggio trionfale i nostri ornamenti le spiegano subito le circostanze ma ella li guarda con evidente ansietà o perfino con terrore qualche tempo prima trovando difficile colpire un bersaglio in movimento impacciato come ero dalla vicinanza del cocchiere e dalle redini che mi intralciavano avevo dato alla guardia una copia dell'edizione serale del corriere contenente le notizie ufficiali per la prima carrozza che passasse egli perciò la gettò nella vettura piegata in modo che le lettere cubitali che componevano un qualche titolo come vittoria gloriosa colpissero subito lo sguardo ma anche solo vedere il giornale così commentato dai nostri emblemi di trionfo tutto si spiegava e se la guardia era nel vero pensando che la signora lo aveva accolto con un gesto di orrore non si poteva più dubitare che ella avesse sofferto qualche sventura personale connessa con la guerra di Spagna ecco dunque il caso di una persona che avendo prima sofferto poteva forse erroneamente angustiarsi per la previsione di altre sofferenze simili quella notte stessa appena tre ore più tardi accadde il caso contrario una povera donna che con ogni probabilità di lì a un giorno o due si sarebbe trovata a soffrire per quella battaglia la più grave delle sciagure si abbondonò ciecamente nell'udire la notizia ai particolari espressioni di esultanza così fuori di misura da prendere quell'aspetto che tra i celti del Highlands si chiama di invasato avvenne in una piccola cittadina dove cambiamo i cavalli all'una o alle due dopo mezzanotte una qualche fiera oveglia aveva tenuto alzati gli abitanti e per l'occasione erano stati illuminati banchi e baracche con un effetto insolito ma molto suggestivo avvicinandoci vedemmo molte luci muoversi qua e là e forse l'accoglienza ricevuta in quel luogo fu la scena che più ci colpì lungo tutta la strada il bagliore delle torce e lo splendore così bello delle luci azzurre dette tecnicamente fuochi di bengale sulle teste dei nostri cavalli il delicato effetto di questa illuminazione piovente e spettrale che cadeva sui nostri fiori e sui nostri lauri scintillanti mentre tutti intorno a noi che formavamo un centro di luce l'oscurità si addensava dietro e sui lati in un nero compatto questa festa dell'occhio insieme col prodigioso entusiasmo della popolazione componevano un quadro scenografico e commovente teatrale e sacro ad un tempo ci fermavamo due o tre minuti ed io scesi a terra subito una donna di mezza età s'avanzò ansiosamente da una baracca smontata lungo la via di cui certamente ella aveva tenuto la direzione nelle prime ore della notte era stata la vista del mio giornale ad attirare su di me la sua attenzione la vittoria di cui quella volta portavamo la notizia alle province era l'imperfetta vittoria ditta la vera imperfetta nei risultati per il virtuale tradimento del generale spagnolo questa ma non imperfetta nel suo memorabile eroismo e narrai le vicende salienti della battaglia l'agitazione del suo entusiasmo nell'ascoltarmi e già nel chiedermi informazioni era stata così forte che non potei fare a meno di domandarle se aveva un parente nell'esercito della penisola o sì aveva là il suo unico figlio in che reggimento era soldato del ventitreesimo dragoni e si strinse il cuore nell'udire la sua risposta quel sublime reggimento che un inglese non dovrebbe mai nominare senza togliersi il cappello alla sua memoria aveva eseguito la carica più efficace di cui si abbia notizia negli annali militari quando poterono lanciarono i loro cavalli al di sopra di una trincea quando non poterono li lanciarono dentro andando incontro a morte o a mutilazioni in che proporzione essi riuscissero a superare la trincea non è detto in nessun luogo quelli che vi riuscirono serrarono le file e piombarono sul nemico con uno slancio così divino usa bella posta la parola divino l'ispirazione di dio deve aver suggerito quel movimento a coloro che in quel medesimo istante egli chiamava al suo cospetto che ne seguirono due risultati per quel che riguarda il nemico questo ventitresimo dragoni che all'inizio non contava credo più di 350 uomini paralizzò una colonna francese di 6.000 uomini poi salì la collina e attrasse gli sguardi dell'intero esercito francese in quanto a loro si credette dapprima che il ventitresimo fosse appena sfuggito all'annientamento ma credo che in definitiva ne sia sopravvissuto circa un uomo ogni quattro e questo era dunque il reggimento un reggimento già esaltato e consacrato in tutta Londra e considerato giacente nella grande maggioranza in un sanguinoso a Keldama era questo il reggimento dove serviva il giovane soldato la cui mamma stava ora parlando con un così gioioso entusiasmo le palesai la verità ebbe il cuore di infrangere i suoi sogni no domani mi dissi domani o il giorno dopo il peggio le sarà noto perché non lasciarla dormire in pace per una notte ancora le probabilità sono troppe che da domani in poi la pace abbandoni il suo capezzale che dunque ella debba questo breve respiro a un mio dono al mio riservo ma se non le dissi del prezzo di sangue che era stato pagato non perciò tacqui il contributo che il reggimento di suo figlio aveva dato al risultato e alla gloria di quella giornata non le mostrai le funebri bandiere sotto cui riposava il nobile reggimento non sollevai gli allori che ombreggiavano la sanguinosa trincea in cui i cavalli e i cavalieri giacevano insieme massacrati ma le dissi come quei cari figli d'inghilterra ufficiali e soldati avessero lanciato i loro cavalli al di là di ogni ostacolo allegramente come cacciatori alla battuta mattutina le dissi come essi avessero spinto i cavalli nelle nebbie della morte aggiungendo per me ma non per lei e sacrificato così volentieri le loro giovani vite per te o madre inghilterra e versato il loro nobile sangue così serenamente come non mai da bambini dopo una lunga giornata di giochi avevano posato il loro capo stanco sulle ginocchia della mamma e si erano addormentati tra le sue braccia strano ma pur vero ella non parvene a nutrire alcun timore per la salvezza del figlio nemmeno dopo aver saputo che il ventitreesimo Dragoni era stato impegnato in maniera memorabile ma fu tale il suo trasporto nel sapere che il suo reggimento e perciò lui aveva reso un grande servizio nel terribile conflitto un servizio che in realtà aveva fatto di loro nelle ultime dodici ore l'argomento principale delle conversazioni di Londra e il timore fu così interamente assorbito dalla gioia che nella piena semplicità della sua natura entusiastica la povera donna mi gettò le brazze al collo quasi credendomi suo figlio e diede a me il bacio che in cuor suo destinava a lui secondo la visione della morte improvvisa come si può considerare l'opinione prevalente degli uomini riflessivi e dei filosofi sulla morte improvvisa è da notare che in diverse condizioni sociali la morte improvvisa è stata variamente considerata come il compimento della carriera terrena da desiderarsi più ardentemente o come il compimento da deprecare con più orrore il dittatore Cesare al suo ultimo pranzo proprio la sera che precedette il suo assassino quando i minuti della sua carriera terrena erano contati a chi gli chiedeva quale morte si dovesse a suo giudizio considerare più desiderabile rispose la morte più improvvisa d'altra parte la divina litania della nostra chiesa anglicana nell'elevare le sue suppliche quasi parlasse in nome dell'eterna umanità prostrata dinanzi a dio pone dalle morte all'apice di tutti gli orrori dalla folgore dal temporale dal contagio dalla pestilenza e dalla carestia dalla guerra dall'omicidio e dalla morte improvvisa liberati o signore la morte improvvisa è posta qui a coronare il vertice di un crescendo di calamità è collocata tra gli ultimi flagelli eppure dal più nobile dei romani era considerata la prima tra le grazie in questa differenza la maggior parte dei lettori non vedrà che la differenza essenziale tra cristianesimo e paganesimo ma tutto considerato ne dubitano la chiesa cristiana può aver ragione nel suo giudizio sulla morte improvvisa ed è sentimento naturale sebbene in fondo possa anche essere una debolezza deciderare un distacco tranquillo dalla vita come quello che più sembra conciliabile con la meditazione con ricapitolazioni penitenziali e con l'umiltà delle ultime preghiere non rammento però nessuna diretta giustificazione della scrittura a questa implorazione delle litanie inglesi se non sotto una particolare interpretazione della parola improvvisa sembra una supplica più tollerata e concessa all'umana debolezza che non richiesta dall'umana devozione non tanto è una dottrina basata sulle verità del sistema cristiano quanto un'opinione plausibile basata su una particolarità di temperamento fisico in ogni modo due osservazioni si presentano però come una prudente limitazione a una dottrina che potrebbe degenerare e ha degenerato in una superstizione inumana la prima è questa molte persone sono portate a esagerare l'orrore di una morte improvvisa per la tendenza a dare un falso rilievo a parole e atti solo perché per un caso sono divenuti gli ultimi se un uomo per esempio muore di morte improvvisa mentre è ubriaco la sua morte erroneamente è considerata con particolare orrore come se la sua ubriachezza si aggravasse a un tratto in una bestemmia ma tutto ciò è antifilosofico quel uomo o era ubriacone per abitudine o no se no se la sua ubriachezza era un caso isolato non può esservi nessuna ragione per dare a quell'atto un'importanza speciale solo perché è divenuto per una disgrazia il suo ultimo atto e d'altra parte se non si trattava di un caso ma di una delle sue mancanze abituali essa diverrà tanto più abituale o più grave perché una qualche improvvisa sciagbura sorprendendolo di quella mancanza abituale avrà fatto anche l'ultima se quell'uomo avesse avuto una ragione per prevedere sia pure vagamente la sua improvvisa morte il suo atto intemperante avrebbe assunto un nuovo aspetto sarebbe stato un atto di arroganza o di irriverenza come di chi sapendosi sul punto di trovarsi al cospetto di Dio avrebbe dovuto accordare la sua condotta con un'attesa così solenne ma questo non rientra nel caso supposto l'unico elemento nuovo nell'atto di quell'uomo non è un elemento di particolare immoralità ma semplicemente di particolare sfortuna l'altra l'altra osservazione riguarda il significato della parola improvvisa molto probabilmente Cesare e la chiesa cristiana non dissentono nel senso che si suppone cioè non dissentono per una differenza di dottrina sulla concezione pagana e cristiana dello stato d'animo appropriato alla morte ma forse contemplano casi diversi ambie due pensano a una morte violenta a una morte che sopravviene non per un cambiamento interno spontaneo ma per forza attiva di origine esterna su questo significato le due fonti concordano fino a qui sono in armonia ma la differenza è che il romano con la parola improvvisa intende non lenta mentre la litania cristiana con morte improvvisa vuole dire morte impreveduta e perciò senza nessun appello alla preparazione religiosa il povero ammutinato che si inginocchia per ricevere nel cuore le pallottole dai dodici moschetti dei suoi compagni impietositi muore nella più improvvisa morte nel senso usato da cesare un colpo uno spasmo violento un lamento e forse neanche uno e tutto è finito ma secondo il senso della litania la morte dell'ammutinato è ben lungi dall'essere improvvisa dapprima la sua colpa poi l'incarcerazione il processo l'intervallo fra la condanna e l'esecuzione sono stati per lui altrettanti avvertimenti del suo destino altrettanti inviti ad affrontarlo con una solenne preparazione comprendiamo subito da questa netta distinzione verbale il costante fervore con cui la chiesa cristiana intercede in favore dei suoi poveri figli morenti affinché Dio conceda loro l'ultimo grande privilegio e segno di considerazione sul letto di morte cioè l'opportunità di prepararsi serenamente ad affrontare la grande prova la morte improvvisa semplicemente come una delle varie maniere di morire dove la morte in una forma o nell'altra è inevitabile presenta una questione di scelta che sia nel senso romano sia in quello cristiano sarà risolta diversamente secondo il diverso temperamento di ognuno intanto vi ha un aspetto una varietà di morte improvvisa di cui non si può debitare che sia il più sconvolgente dei tormenti quando cioè essa coglie un uomo in circostanze che offrono o sembrano offrire una rapida fuggevole impercettibilmente piccola probabilità di evitarla lo sforzo per sottrarvi deve essere rapido come il pericolo che si affronta ma perfino questo perfino la disperante necessità di affrettarsi nel momento supremo in cui ogni precipitazione sembra destinata a riuscire vana perfino questa angoscia può venire ancora orribilmente esasperata in un caso particolare nel caso cioè in cui l'appello non si rivolga esclusivamente all'istituto di conservazione ma alla coscienza per la salvezza di un'altra vita oltre la nostra affidata per caso alla nostra protezione fallire soccombere quando si tratta esclusivamente di noi può sembrare relativamente perdonabile sebbene in realtà sia ben lungi dall'esserlo ma fallire quando la provvidenza ha improvvisamente posto nelle nostre mani i supremi interessi di un altro di un nostro simile tremante alle soglie della vita e della morte questo per un uomo di coscienza scrupolosa unirebbe al supplizio una sanguinosa disgrazia il supplizio di un atroce delitto nel caso prospettato possiamo forse essere chiamati a morire ma a morire proprio al momento in cui per ogni cedimento anche minimo per ogni femminio collasso delle nostre energie ci accuseremmo di assassino per il nostro sforzo non avevamo che un attimo e quello sforzo avrebbe anche potuto riuscire vano ma l'esserci elevati all'altezza di un tale sforzo ci avrebbe salvati non già dalla morte ma dal morire come traditori del nostro ultimo ed estremo dovere il caso contemplato svela una terribile piaga annidata nel profondo della natura umana non che gli uomini siano in genere chiamati ad affrontare prove così tremende ma potenzialmente e in una forma nebulosa tale prova vive sotterranea forse nella natura di tutti forse per ognuno di noi simile prova è proiettata confusamente sullo specchio segreto dei sogni quel sogno così comune nell'infanzia di incontrare un leone e quella sequela di abbandoni dinanzi ad esso per il languido venir meno della speranza e delle sue energie denunzia la segreta fragilità della natura umana le rivela la sua radicata falsità ne attesta l'insondabile tradimento forse nessuno sfugge a quel sogno forse come per una dolorosa condanna dell'uomo quel sogno ripete per ognuno di noi da una generazione all'altra la tentazione originale dell'Eden ognuno trova in quel sogno un'esca offerta ai punti più deboli della sua volontà individuale ancora una volta un serpente gli si presenta per tentarlo a lasciarsi tracinare schiavo del piacere della rovina ancora una volta come nel primitivo paradiso l'uomo cade per la sua scelta ancora con infinita ripetizione l'antica terra attraverso le sue segrete caverne si lamenta col cielo per la debolezza della sua creatura la natura dal suo seggio sospirando da tutte le sue opere ancora da segni di dolore perché tutto è perduto e il sospiro è ancora ripetuto ai cieli doloranti per la ribellione senza fine contro Dio non è improbabile che nel mondo dei sogni ognuno di noi confermi per sé la ribellione del primo uomo il sogno forse per qualche segreto conflitto del dormiente siamo in quel momento della coscienza ma che si oscura nella memoria non appena tutto è finito ogni singolo figlio della nostra misteriosa razza consuma per sé il tradimento del peccato originale l'incidente che mi fornì l'argomento per questa deviazione sulla morte improvvisa in sé così memorabile per i suoi caratteri di orrore e così scenografico per il quadro che offriva alla vista accadde nel cuore della notte a me unico spettatore mentre viaggiavo a cassetta della dirigenza per Manchester e Glasgow nell'estate del secondo o terzo anno dopo Waterloo è necessario riferire le circostanze poiché esse poterono verificarsi solo per una singolare combinazione di incidenti da quei tempi le linee secondarie laterali collegate coi numerosi uffici postali dei distretti rurali erano per necessità o per difetto del sistema organizzate in modo da esigere che la principale linea di nord-ovest cioè la dirigenza del sud giungendo a Manchester si fermasse un certo numero di ore quante non ricordo credo sei o sette ma il risultato era che generalmente la dirigenza riprendeva il suo viaggio per il nord verso mezzanotte stanco di starmene così a lungo rinchiuso in un tetro albergo usci verso le undici a prendere un po' d'aria fresca un'idea di raggiungere la dirigenza all'ufficio postale e riprendere il mio posto siccome la notte era ancora buia poiché la luna era appena sorta e le vie a quell'ora deserte non offrivano nessuna opportunità di chiedere indicazioni smarrì la strada e non giunse all'ufficio postale che parecchio dopo la mezzanotte ma con mio gran sollievo poiché mi premeva di essere la mattina seguente a Westmoreland vidi nei grandi e rotondi occhi della dirigenza che brillavano tra l'oscurità la prova che la mia buona ventura non era ancora perduta l'ora della partenza era passata ma per un qualche insolito incidente la dirigenza non era nemmeno pronta a partire salì al mio posto a cassetta dove il mio mantello era ancora posato come si trovava al Bridgewater Arms l'avevo lasciato lì a imitazione dei grandi viaggiatori che lasciano sulla spiaggia della terra da loro scoperta un pezzetto di stoffa per tenerne lontana l'intera razza umana e avvertire con tanti ossequi il mondo cristiano e pagano che hanno issato una volta per sempre il loro fazzoletto su quella terra vergine e che da l'ora in poi rivendicheranno lo ius domini su tutta l'aria che sta sopra nonché il diritto di scavare pozzi fino al centro della terra al di sotto sicché tutti coloro che dopo questo avviso verranno trovati o nelle regioni superiori dell'atmosfera o a brancolare nelle gallerie sotterranee o sfacciatamente accoccolati sulla superficie del suolo saranno trattati come trasgressori cioè a dire presi a calcio recapitati a seconda delle circostanze dal loro devotissimo servitore e proprietario del sunnominato fazzoletto nel caso in discorso è probabile che il mio mantello non sarebbe stato rispettato e il ius gentium avrebbe subito una barbara violazione nella mia persona nelle tenebre si commettono infatti azioni tenebrose e il gas è un grande alleato della moralità ma si dava il caso che quella notte non vi fossero altri viaggiatori esterni e così il delitto che sarebbe stato altrimenti anche troppo probabile non fu consumato per mancanza di delinquente salito a cassetta prese un po' di laudano poiché avevo già percorso 250 miglia da un punto cioè a 70 miglia al di là di londra non vi era nulla di strano nel fatto che prendessi del laudano ma per caso ciò attrasse l'attenzione di colui che condivideva il mio seggio il cocchiere e anche in questo nulla di strano ma sempre per caso e con mia gran gioia anche la mia attenzione fu attratta dal fatto che quel cocchiere in quanto amassa era un mostro e aveva un occhio solo egli era stato infatti preannunciato da Virgilio come monstrum horrendum informe indens cui lumen adeptum corrispondeva in tutto alle condizioni previste era un mostro era orrendo informe immenso aveva perduto un occhio ma perché tutto ciò mi riempiva di gioia anche se egli fosse stato uno dei calendar delle mille e una notte e avesse pagato con quell'occhio il prezzo della sua criminosa curiosità che diritto avrei avuto io d'esultare della sua disgrazia io non esultavo non gioivo del castigo di nessuno anche se meritato ma questi segni personali numero uno due tre quattro cinque mi fezzero in un attimo identificare un vecchio amico che alcuni anni prima avevo conosciuto nel sud come il più perfetto dei cocchieri egli era l'unico uomo in Europa che avrebbe potuto se mai qualcuno avesse voluto guidare a gran galoppo un tiro a sei sull'Al-Sirat il terribile ponte di Maometto senza parapetti e senza margini nemmeno per un filo di rasoio conducendo il suo equipaggio a salvamento attraverso l'abisso senza fondo sotto la guida di quest'uomo illustre che avevo soprannominato in greco ciclope 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 lauriga io ed altri amici avevamo studiato l'arte di frelatica scusa o lettore una parola troppo elegante per essere pedantesca sebbene gli pagasse un supplemento di onorario è da deplorare che come allievo egli non mi avesse in grande stima è una prova della sua cocciuta onestà e non badate del suo discernimento che egli non riconoscesse i miei meriti ma perdoniamo la sua follia su questo particolare ricordando che gli mancava un occhio è questo senza dubbio che lo rendeva cieco per i miei meriti ammetteva però che nell'arte della conversazione io lo dominavo il nostro incontro in quell'occasione ci riempì di gioia ma cosa faceva il ciclope i medici gli avevano raccomandato l'area del nord o che altro dedussi dalle spiegazioni datemi spontaneamente che aveva degli interessi in pericolo in un processo che si stava svolgendo a Lancaster così probabilmente si era fatto trasferire in quella stazione per conciliare le sue occupazioni professionali con l'immediata prontezza nel rispondere alle convocazioni del suo processo ma intanto perché siamo ancora fermi abbiamo aspettato abbastanza questa tarda diligenza e questo tardo ufficio postale perché non prendo un esempio da me a questo proposito qualcuno ha chiamato me tardo eppure tu mi sei testimonio lettore che io ero lì ad aspettare l'ufficio postale però può l'ufficio postale asserire mettendosi la mano sulla coscienza in uno dei suoi momenti di lucidità che io lo abbia mai fatto aspettare che cosa stanno facendo la guardia mi dice che vi è stanotte un insolito accumulo di corrispondenza dall'estero a causa di irregolarità cagionate dalla guerra dal vento dal maltempo nel servizio dei battelli postali che per ora non trae nessun vantaggio dal vapore per un'ora in più sembra l'ufficio postale era stato occupato a trebbiare il puro grano della corrispondenza per glasgow scevrandola dall'olio delle minori città intermedie ma finalmente tutto è terminato guardia suona la tromba manchester addio abbiamo perso un'ora per la tua criminosa condotta all'ufficio postale ciò che sebbene io non intenda rinunziare a un motivo di lagnanza così utile e che è veramente tale per i cavalli tuttavia considero in cuor mio un vantaggio poiché ci obbliga a far di tutto per ritrovare quest'ora perduta fra le prossime otto o nove e a recuperarla se è possibile a una media di un miglio in più all'ora eccoci fuori finalmente e a undici miglia all'ora per il momento non scopro mutamenti nell'energia e nell'abilità di ciclope da manchester a chedal che in platica se non legalmente è la capitale del westmoreland vi erano a quell'epoca sette tappe di undici miglia l'una le prime cinque terminavano a lancaster che si trova perciò a 55 miglia a nord di manchester e alla stessa precisa distanza da liverpool le prime tre tappe terminavano a preston chiamata per distinguerla dalle altre città dello stesso nome preston l'orgogliosa è qui che confluiscono le due vie separatiche da liverpool e da manchester si dirigono a nord entro queste tre prime tappe ebbe inizio svolgimento e conclusione la nostra avventura notturna durante la prima tappa scoprì che ciclope era mortale egli poteva essere prosaicamente affetto dal sonno cosa che mai prima avevo sospettato se un uomo si abbandona la brutta abitudine di dormire tutta l'abilità d'aurica dello stesso Apollo avesse anche i cavalli d'aurora per eseguire le sue fantasie non può servirgli a nulla oh ciclope esclamai sei dunque mortale russi amico mio tuttavia per le prime undici miglia quella debolezza che mi rincresce dirlo egli divideva con l'intero panteon pagano non si manifestò che in crisi brevi svegliandosi egli fece di sé una difesa che invece di rimediare le cose dischiuse una tetra prospettiva di futuri disastri mi ricordò che le sedute estive del tribunale di Contea si tenevano allora a Lancaster in conseguenza di ciò per tre giorni e tre notti egli non si era disteso in un letto durante il giorno aspettava di essere chiamato a deporre nel processo che lo interessava eppure per non mancare al momento critico rimaneva a bere con gli altri testimoni sotto la pastorale sorveglianza dei procuratori durante la notte o in quella parte della notte che in mare si chiamerebbe turno di guardia di seconda comandata guidava i cavalli questa spiegazione certo dava conto della sua sonnolenza ma in maniera da renderla assai più allarmante perché ormai dopo aver resistito parecchi giorni a quella debolezza egli veniva continuamente cedendo durante la seconda tappa lo vidi sempre più un bevuto di sonno al secondo miglio della terza tappa si arrese infine senza lottare alla pericolosa tentazione tutta la sua resistenza passata non fece che aumentare la pesantezza dell'oppressione finale gravavano su di lui almeno sette atmosfere di sonno e per colmarla misura la nostra degna guardia dopo aver cantato per una trentina di volte amore tra le rose senza essere richiesto né applaudito si era per vendetta abbandonato tristemente anche lui a un sonnellino non profondo come quello del cocchiere certo ma sempre profondo abbastanza per provocare qualche guaio e così in conclusione a circa dieci miglia da Preston accadde che io mi trovassi affidata la cura della regia della dirigenza Londra-Glesgov che correva in quel momento almeno a dodici miglia all'ora ciò che rendeva questa negligenza meno colpevole di quanto altrimenti sarebbe stata erano le condizioni delle strade durante la notte in tempo di sedute del tribunale a quel tempo tutti gli affari legali della popolosa Liverpool e anche della popolosa Manchester con la vasta cinta di popolosi distretti rurali erano discussi per l'antica usanza al tribunale della Lillipuziana Lancaster per porre fine a questo antico uso tradizionale ci vollero uno un conflitto contro interessi ben radicati due un vasto sistema di nuovi accordi tre un nuovo statuto parlamentare ma per allora il cambiamento era solo in progetto nel modo come le cose stavano due volte all'anno si spostava verso nord dal sud della contea una tale more di affari che per una quindicina di giorni almeno ci voleva l'assidua fatica di due giudici per sbrigarli la conseguenza di questo era che lungo tutta la strada ogni cavallo disponibile per tale servizio era sfinito a forza di trasportare la moltitudine di persone che erano parte in causa dei diversi processi perciò accadeva di solito che al tramonto per l'estremo esaurimento degli uomini dei cavalli la strada si immergesse in un profondo silenzio salvo la stanchezza determinatasi nella vasta contea adiacente di York per una elezione contestata non si era mai visto in Inghilterra tanto silenzio succedere a tanta confusione quella notte predominavano lungo la strada il silenzio e la solitudine abituali non si udiva risuonare uno zoccolo né una ruota e ad accrescere questa confortevole fiducia nelle strade silenziose si aggiungeva il fatto che era una nottata particolarmente tranquilla e solenne da parte mia sebbene vagamente conscio dei possibili pericoli avevo tanto ceduto all'influsso di quella grande calma da abbandonarmi ad una profonda fantasticheria eravamo ad agosto a metà di questo mese cade il mio compleanno una ricorrenza che suggerisce agli uomini riflessivi pensieri solenni e spesso spiritosi quella contea era la mia contea nativa su di essa specie nella parte meridionale più che su qualsiasi altro uguale spazio della terra noto all'umanità passata o presente si era abbattuta in forma particolarmente gravosa l'originaria condanna al lavoro dominando non solo il corpo degli uomini come fosse lo schiavio forzati nelle miniere ma operando anche sulla loro faticosa volontà ma operando anche sulla loro faticosa volontà e nessun altro uguale spazio di terra fu o era mai stata spesa ogni giorno la stessa somma di energia umana anche in quel particolare periodo del tribunale ciò che sarebbe apparso a uno straniero un pauroso turbinio di fughe e di inseguimenti che per tutta la giornata si scatenava verso Lancaster e da Lancaster percorrendo la contea in su e in giù e ricadendo di nuovo nel silenzio verso il tramonto non poteva mancare unito alla caratteristica permanente dell'Anchershire di essere la metropoli e la cittadella del lavoro di volgere pateticamente il pensiero a quella opposta visione di quiete di santo riposo dalla lotta e dal dolore verso cui muovevano in solitudine continuamente come verso il loro porto segreto le più profonde aspirazioni del cuore umano alla nostra sinistra ci avvicinavamo obliquamente al mare e anche questo in tali circostanze può rendere il diffuso stato di riposo al cionio il mare l'atmosfera la luce avevano ognuno la sua parte orchestrale in quell'assopimento dell'universo la luce lunare e i primi timidi tremolii dell'alba cominciavano in quell'ora a fondersi la fusione era portata a un grado di unità ancora più squisito da una leggera nebbia argentia immobile di sogno che copriva i boschi e i campi appena ad un velo di trasparenza uniforme all'infuori degli zoccoli dei nostri cavalli che correndo sopra un margine sabbioso della strada facevano ben poco rumore non si udiva nulla all'intorno fra le nuvole e sulla terra dominava la stessa pace solenne e a dispetto di tutto ciò che quello sciagurato del maestro di scuola ha fatto per rovinare le nostre idee più sublimi le idee della nostra infanzia nessuno di noi ancora crede in una cosa tanto assurda come quella di un'atmosfera limitata qualsiasi cosa affermino le nostre labbra mendaci nei nostri cuori fiduciosi noi ancora crediamo e dobbiamo sempre credere nelle distese d'aria che traversano l'abisso fra la terra e i cieli centrali sempre con la fiducia dei bambini che entrano senza timore in ogni stanza della casa paterna e per i quali nessuna porta è chiusa noi in quella sabatica visione che talvolta si rivela per un'ora e notti come queste ce le diamo con facile passo dai campi della terra battuti dal dolore su fino ai sandali di dio bruscamente fui tolto a questi pensieri da un suono cupo come di un movimento sulla strada lontana passò nell'aria per un momento ascoltai con apprezzione ma allora dileguò una volta riscosso non potei fare a meno però di osservare con apprezzione l'aumentata rapidità dei cavalli dopo dieci anni di esperienza il mio occhio aveva imparato a calcolare la velocità e vedi subito che correvamo a tredici miglia all'ora io non pretendo di possedere la minima presenza di spirito anzi temo di essere riguardo all'azione miseramente vergognosamente manchevole di questa qualità la paralisi del dubbio e della dimostrazione gravano sulle mie energie come il peso peccaminoso di oscuri e insondabili ricordi quando risuona il segnale dell'azione ma ho d'altra parte per quanto riguarda il pensiero questo terribile dono al primo passo verso una possibile disgrazia ne prevedo tutto lo sviluppo nell'inizio di una serie vedo fin troppo sicuramente istantaneamente l'intero svolgimento nella prima sillaba della terribile sentenza leggo già l'ultima non che temessi per noi noi la nostra mole e il nostro impeto ci fatavano contro il pericolo in ogni collisione e troppe centinaia di volte avevo corso pericoli che all'avvicinarsi erano sembrati spaventosi e che a ripensarli erano cose da ridere pericoli il cui primo aspetto era stato l'orrore e l'ultimo uno scherzo perché nutrissi qualche timore sul nostro conto ancora non era stata fabbricata ne ero certo ne si stava fabbricando la dirigenza che avrebbe tradito la mia fiducia nella sua protezione ma tutte le vetture che potevamo incontrare sarebbero state fragili e leggere in confronto a noi e notai anche un particolare sinistro della nostra situazione non eravamo dal lato giusto della strada ma si potrebbe osservare che forse anche l'altra vettura seppure vi era non teneva la mano giusta e così da due mali sarebbe potuto nascere un bene ma ciò non era probabile lo stesso motivo che aveva attirato noi sul lato destro della strada cioè la comodità della soffice sabbia battuta in contrasto col centro lastricato sarebbe stato invitante anche per altri perciò le due opposte vetture viaggiavano certamente dalla stessa parte e proprio da noi che non tenevamo secondo le norme la nostra mano gli altri si sarebbero naturalmente aspettati che passassimo sull'altro lato le nostre lampade ancora accese avrebbero dato l'impressione che noi vigilassimo e chi ci avesse incontrato avrebbe fatto assegnamento su noi per sterzare tutto ciò io vidi non ragionando e con sforzo o successivamente ma in un solo lampo di orrenda simultanea intuizione e lo avrai veduto anche se gli anelli della previsione fossero stati mille volte di più sotto l'influsso di questa sicura benché rapida visione del male che forse ci si addensava dinanzi quale cupo mistero di paura quale sospiro di angoscia fu quello che passò nell'aria mentre di nuovo si udiva un lontanissimo rumore di ruote era un sussurro lontano forse quattro miglia e segretamente annunciava una disgrazia che per essere prevista non era meno inevitabile che per essere nota non era scongiurata che cosa si poteva fare chi poteva farlo per frenare la corsa vertiginosa di quei cavalli indemoniati non potevo strappare le redini dalla stretta del cocchiere addormentato tu lettore pensi che farlo sarebbe stato in tuo potere e io non discuto la tua stima di te stesso ma per il modo con cui la mano del cocchiere era rasserrata fra le gambe accavallate la cosa riusciva proprio impossibile era facile ebbene guarda quella statua equestre di bronzo per due secoli il cavaliere crudele ha tenuto il morso nella bocca del suo cavallo devagli per un minuto le briglie te ne prego e bagnagli la bocca con acqua era facile e allora fammi scendere di sella quell'imperiale cavaliere toglimi quei piedi di marmo da quelle staffe di marmo di carlo magno il rumore dinanzi a noi cresceva ed era ormai fin troppo chiaramente un rumore di ruote chi e che cosa poteva essere era il lavoro sulla sua carretta era la giovanile allegria su un calessino era dolore che si indugiava o gioia che correva poiché ancora i brangalli di suono erano troppo intermittenti a causa della distanza per poterne distinguere l'origine chiunque chiunque fossero i viaggiatori si doveva fare qualcosa per avvertirli su loro pesava la responsabilità di agire ma su noi e ahimè quel noi era ridotto alla mia povera persona distrutta dall'oppio pesava la responsabilità di avvertire come fare non potevo suonare il corno di guardia già a primo pensiero mi trovavo sul tetto diretto verso il posto della guardia ma per la circostanza che ho già accennato della posta estera mucchiata sul tetto era questo un tentativo difficile e anche pericoloso per uno intorpidito da quasi 300 miglia di viaggio a cassetta fortunatamente prima che avessi perduto molto tempo in quel tentativo i nostri frenetici cavalli svoltarono rapidamente a una curva della strada che si scoprì la scena finale dove lo scontro doveva compiersi e la catastrofe avere il suo suggello era chiaro ormai che tutto era finito il tribunale era riunito la causa era stata discussa il giudice aveva terminato e non mancava che il verdetto innanzi a noi si stendeva un viale dritto come una freccia e lungo circa 700 yard e gli alberi ombrosi che crescevano su due file regolari ai lati riunendosi in alto gli davano l'aspetto di una navata di cattedrale quegli alberi conferivano una profonda solennità alla prima luce ma pure ci si vedeva abbastanza per scorgere dall'altra estremità di quella navata gotica un calessino fragile leggero nel quale sedevano un giovanotto e al suo fianco una fanciulla che state facendo se è necessario che le vostre parole le sussurriate all'orecchio di quella signora sebbene in realtà io non veda chi potrebbe udirvi in un'ora o su una strada così solitaria è necessario per questo che posiate le vostre labbra sulle sue la piccola vettura si avanzava a un miglio all'ora e i due viaggiatori così teneramente occupati tengono come naturale la testa bassa fra loro e l'eternità secondo ogni calcolo umano vi è solo un minuto e mezzo oh cielo che cosa farò mai con le parole e con l'azione che aiuto posso recare è strano è strano è un semplice ascoltatore di questo racconto può sembrare ridicolo che avessi bisogno di un suggerimento dell'Iriade per ispirarmi l'unica risorsa che rimaneva eppure fu così ricordai a un tratto il grido di Achille e il suo effetto ma potevo pretendere di gridare come aveva gridato il figlio di Peleo con l'aiuto di Pallade no ma neanche mi occorreva un grido che chiamasse raccolta tutta l'Asia in armi bastava un grido che mettesse il terrore nel cuore di due giovani sprensierati e di un cavallino da calesse gridai e il giovane non mi udì gridai ancora e questa volta mi udì poiché questa volta alzò la testa ecco era fatto tutto ciò che da me si poteva fare di più questo da parte mia non era possibile il primo passo era stato mio il secondo doveva farlo quel giovanotto il terzo era di Dio se quello straniero mi dissi è un uomo coraggioso e si ama veramente la fanciulla che gli sta a fianco o se anche senza amarlo sente l'obbligo che ha ogni uomo degno di questo nome di tentare tutto il possibile per una donna affidata alla sua protezione egli farà almeno qualche sforzo per salvarla se ciò fallisce morirà ugualmente né la sua morte sarà più crudele per aver tentato e morirà come un uomo coraggioso col viso rivolto verso il pericolo e il braccio intorno alla donna che ha cercato in vano di salvare ma se non farà nessun tentativo sottraendosi senza lotta il suo dovere per così bassa liltà non sarà meno certa la sua fine morrà ugualmente e perché no perché rammaricarci se vi sia al mondo un vila di meno no lasciamo che muoia senza sprecare per lui uno solo dei nostri pensieri di pietà e in tal caso osserviamo tutto il compianto per il destino di quella fanciulla indifesa che ora per la minima ombra di debolezza da parte di lui dovrà col più brusco dei passaggi senza il tempo per una preghiera entro settanta secondi trovarsi dinanzi al giudizio di dio ma vile egli non era fulminio era stato l'appello e fulminea fu la sua risposta vide udì comprese il disastro imminente già se ne addensava su di lui la tetra ombra e già egli misurava le proprie forze per affrontarlo ah che cosa volgare ti sembra il coraggio quando vediamo le nazioni comprarlo e venderlo per un ocellino al giorno ah che cosa sublime ci sembra il coraggio quando un terribile richiamo ai più profondi avissi della vita solleva un uomo quasi in fuga dinanzi a un uragano sull'apice vertiginoso di una crisi tumultuante dalla quale si ripartono due vie e una voce dice udibilmente da un lato sta la speranza scegli l'altro e piangi per sempre che immenso trionfo se anche allora nell'infuriare di tutto intorno a lui nel parossismo del pericolo l'uomo riesce ad affrontare la situazione riesce a ritirarsi un momento in solitudine con Dio e a cercare la sua guida in lui per sette secondi circa dei suoi settanta lo straniero tenne fermamente lo sguardo su noi come per scrutare e valutare ogni elemento del conflitto che lo attendeva per altri cinque dei suoi settanta secondi rimase immobile come uno che rifletta su qualche grande proposito per altri cinque secondi forse alzò gli occhi come chi nella sofferenza sotto la stretta del dubbio preghi che una luce venga a guidarlo verso la scelta migliore poi ad un tratto si levò rimase in piedi e con un potente strattone alle redini che sollevò dal terreno le zampe anteriori del cavallo lo fece girare sul perno delle zampe posteriori in maniera da porre il piccolo equipaggio in una posizione quasi ad angolo retto con la nostra fin qui la sua situazione non era migliorata solo era stato compiuto un passo verso la possibilità di un secondo se non si faceva di più non si era fatto nulla perché la piccola vettura sebbene in una posizione diversa stava ancora proprio in mezzo al nostro cammino eppure anche in questo momento può non essere troppo tardi 15 dei 70 secondi restano forse ancora e solo un balzo supremo può valere a sgomberare il terreno affrettati dunque affrettati già che essi fuggenti attimi si affrettano oh affrettati affrettati mio giovane valoroso già che gli zoccoli dei nostri cavalli si affrettano anch'essi rapidi sono gli attimi fuggenti più rapidi sono gli zoccoli dei nostri cavalli ma se l'umana energia può bastare non temete per lui chi guidava era fedele al suo terribile compito e fedele era il cavallo al suo comando una frustata un incitamento dello straniero con la voce e con la mano uno strattone al cavallo un balzo come nell'atto di superare un ostacolo portarono le zampe anteriori del docile animale sul centro di curvo della strada gran parte del piccolo equipaggio era dunque fuori della nostra ombra torreggiante ciò appariva evidente anche alla mia vista agitata ma poco importava che un relitto rimanesse a galla salvo se sull'altro che periva fosse imbarcato un carico umano la parte posteriore della vettura era davvero al sicuro dalla rovina chi aveva potere di rispondere a questa domanda sguardo di pupilla pensiero d'uomo era d'angelo quale di queste cose possedeva tanta rapidità da slanciarsi fra la domanda e la risposta e separarle l'una dall'altra la luce non è più indivisibile dalla luce di cui segue le orme di quanto fosse il nostro arrivo travolgente nel tentativo di fuga del calessino e questo il giovane dovette sentire fin troppo chiaramente egli ci voltava ora le spalle e non poteva più comunicare col pericolo per mezzo dello sguardo ma dal fragore pauroso del nostro equipaggio il suo orecchio aveva esattamente appreso che per quanto riguardava i suoi sforzi tutto era finito ormai rassegnato aveva desistito dalla lotta e forse in corso mormorava padre che sei nei cieli compi tu dall'alto ciò che io sulla terra ho tentato più rapidi d'ogni gora li oltrepassammo nella nostra corsa inesorabile oh furia d'uragano che dovette risuonare nelle loro giovane orecchie dal momento del nostro passaggio anche in quel momento il tuono della collisione parlò alto o col bilancino o col fianco del nostro primo cavallo di sinistra avevamo urtato la ruota a sinistra del piccolo calesse che si trovava in posizione obliqua e non abbastanza voltata da essere esattamente parallela alla nostra ruota di sinistra passammo con tale impeto che il colpo risuonò orribilmente valsai in piedi inorridito per vedere quale disastro avessimo prodotto dal mio posto elevato mi volsi a guardare indietro e in basso la scena che in un istante narrò intera la sua storia e mi si impresse tutta nel cuore per sempre eccolo il campo di un'emozione ormai finita il cavallo stava piantato immobile con le zampe anteriori sul centro rastricato della strada di tutta la comitiva era il solo che si poteva supporre non sfiorato dall'angoscia della morte la piccola vettura di legno leggero in parte forse per la torsione violenta delle ruote nel movimento di poco prima in parte per il terribile colpo che le avevamo dato quasi partecipasse dell'orrore dell'uomo era tutta percorsa da tremiti e brividi il giovane non tremava né brividiva stava immobile come una roccia la sua era però l'immobilità dell'agitazione agghiacciata dall'orrore non osava ancora guardarsi attorno sapeva che se qualcosa restava da fare non poteva più essere fatta da lui e non sapeva ancora con certezza se erano salvi ma la fanciulla oh cielo potrà mai quello spettacolo svanire dai miei sogni quel sollevarsi e ricadere sul sedile cadere e risollevarsi levare selvaggiamente le braccia al cielo e aggrapparsi a qualche oggetto immaginario nell'aria quella cosciarsi pregare delirare disperare la figura ti lettore i particolari dell'accaduto lascia che ti rammenti le circostanze di quella situazione senza precedenti dal silenzio e dalla pace profonda di quella divina notte d'estate dalla patetica fusione di quella dolce luce di luna d'alba di sogno dalla virile tenerezza di quell'amore che lusinga bisbiglia mormora d'improvviso quasi uscendo dai boschi e dai prati d'improvviso quasi uscendo dall'aria apertasi in una rivelazione d'improvviso come se il terreno si spalancassa ai suoi piedi ecco addosso con l'impeto delle cateratte la morte il fantasma incoronato col suo seguito di terrori e il ruggito felino della sua voce gli istanti erano contati la lotta finita la visione chiusa in un batterdocchio i nostri volanti cavalli ci avevano trasportato all'estremità di quella navata ombrosa voltammo ad angolo retto nella nostra primitiva direzione la curva della strada sottrasse la scena al mio sguardo in un attimo e la tracinò nei miei sogni per sempre 3 fuga di sogni tratta dal tema precedente della morta improvvisa d'onde il suono di strumenti in melodioso accordo sudì d'organo e d'arpa e chi muoveva tasti e corde si vide il tocco rapido nativamente esperto ad ogni tono alto e basso volava ed inseguiva obliquamente la risonante fuga paradiso perduto libro 11 tumultuosissimamente passione della morte improvvisa che una volta nella giovinezza lessi e interpretai nelle ombre dei suoi segni visti da dietro delirio del panico che assume l'aspetto già da me veduto nelle chiese tra le tombe di una donna che spezza i suoi legami sepolcrali di una ionica forma di donna che si protende in avanti dalle rovine della sua tomba con piede arguato occhi al cielo mani giunte in adorazione attendendo spiando tremando pregando che lo squillo della tromba la sollevi per sempre dalla polvere ah visione spaventosa dell'umanità che raccappriccia sull'orlo di terribili avissi visione che indietreggiasti e ti ritraesti come una pergamena quando si accartoccia dinnanzi alla rabbia del fuoco che corre sulle ali del vento epilessia così breve dell'orrore perché mai non puoi tu morire passando così bruscamente nelle tenebre perché mai spandi ancora i tuoi tristi funerei malefici sui mosaici splendenti dei sogni brano di musica appassionata udito una volta e mai più che cosa ti tormenta perché i tuoi accordi che s'aggirano nel profondo affiorino a intervalli da tutti i mondi di sonno e dopo quarant'anni non abbiamo perduto nessun elemento di orrore ecco è l'estate l'onnipotente estate gli eterni cancelli della vita dell'estate sono spalancati e sull'oceano tranquillo e verdeggiante come una savana la dama sconosciuta della terribile visione ed io stiamo navigando lei su una pinassa fatata e io su un treponti inglese entrambi seguivamo il vento della felicità gaudiosa entro il dominio della nostra patria comune in quest'antico parco d'acqua in questa bandita senza sentieri dell'oceano dove l'Inghilterra d'estate d'inverno dal sorgere del sole fino al tramonto erra a suo piacere come una cacciatrice a quanta floreale bellezza si celava o si rivelava d'improvviso sulle isole tropicali tra cui navigava la pinassa e sul suo ponte che accolta di fiori umani fanciulle incantevoli e nobili giovani che danzavano insieme lentamente venivano verso di noi tra musiche e incenso tra fiori delle foreste sontuosi grappoli di vendemmia tra inni sfontanei ed ecchi di dolci risa di fanciulle lentamente la pinassa si avvicinava a noi si salutava gaillamente e in silenzio scompare nell'ombra della nostra poterosa prora e allora come ad un segnale del cielo la musica i canti e il dolce cheggiare delle risa di fanciulle tutto tace quale calamità ha colpito la pinassa lei è venuta incontro o la raggiunta nella nostra ombra terribile si celava dunque la rovina dei nostri amici la nostra ombra era l'ombra della morte guardai oltre la nostra prua cercando una risposta ed ecco la pinassa era smantellata il festino e le festante brigata erano scomparsi l'orologio della vendemmia era polvere e le foreste con le loro bellezze rimanevano sul mare senza nessuno per ammirarle ma dove sono e mi rivolse al nostro equipaggio dove sono fuggiti i nobili giovani che danzavano con loro non vi fu risposta ma ad un tratto l'uomo dell'albero maestro abbuiandosi in viso per il timore gridò vila sottovento ci viene addosso fra settanta secondi anch'essa affonderà due guardai dalla parte del vento l'estate era scomparsa il mare si sollevava scosso dall'addensarsi dell'ira sulle sue superfici gravavano grosse nebbie raggruppandosi in arcate e lunghe navate di cattedrali già da una di esse con l'ardente rapidità di una frezza scoccata dalla balestra correva una fregata diretta proprio attraverso la nostra rotta sono pazzi gridò una voce dal nostro ponte cercano dunque la loro ordina ma ad un tratto quando c'era quasi addosso l'impulso di una forte corrente un vortice incontrato ne fece piegare il corso ed essa continuò a procedere senza un urto mentre ci passava vicino in alto fra le sartie stava la dama della pinassa gli abissili si aprivano dinanzi malignamente per riceverla torreggianti ondate di spuma la inseguivano i flutti erano avidi di afferrarla ma ella era trascinata via lontano in deserti spazi del mare ancora io la seguivo con lo sguardo mentre fuggiva dinanzi al vento ululante cacciata dai rosi uccelli marini e dai marosi infuriati la vedevo ancora come al momento in cui ci era passata accanto star dritta fra le sartie con i suoi bianchi drappeggi fluttuanti al vento era lì con i capelli scomposti e una mano aggrappata ai cordami sollevarsi e riabbassarsi fremendo tremando pregando così per molte leghe la vidì star dritta levando a intervalli una mano al cielo fra le irate creste delle onde che la inseguivano e la furia della tempesta finché da ultimo a un suono lontano di rise maligne e di beffe tutto scomparve per sempre fra turbinosi rovesci di pioggia e poi ma non so quando né come dolci campane funebri piangenti da incalcolabili distanze la dipartita di chi muore innanzi l'alba mi desterono dal sonno in una barca ormeggiata a una spiaggia familiare spuntava appena allora il crepuscolo del mattino e al fioco barlume che diffondeva vide una fanciulla adorno il capo di una ghirlanda di bianche rose per una festa solenne correre lungo la spiaggia solitaria con affannosa precipitazione era la sua la fuga del panico e spesso si volgeva a guardare come verso un terribile nemico alle sue spalle ma quando saltai a terra e segui i suoi passi per prevenirla di un pericolo cui andava incontro ahimè e la mi sfuggì come un altro pericolo e in vano le gridai che le sabbie mobili le stavano dinanzi corse sempre più rapida svoltò dietro a una sporgenza delle rocce scomparendo alla mia vista in un momento svoltai anch'io ma solo per vedere le sabbie traditrici chiudersi sopra il suo capo il corpo era già tutto sepolto solo la bella testa giovane e il diadema di bianche rose che la cingeva erano ancora visibili per la commiserazione del cielo e ultimo si vide un candido braccio di marmo vidi alla prima luce crepuscolare quella bella testa giovane sprofondare nella tenebra vidi quel braccio marmoreo sollevarsi al di sopra del capo e della tomba traditrice agitarsi oscillare elevarsi aggrapparsi come ad una mano falsa ingannevole tesa dalle nuvole vidi quel braccio marmoreo esprimere la sua morente speranza ed esprimere poi la sua morente disperazione la testa il diadema il braccio tutto era scomparso infine anche su di lei le crudeli sabbie si erano racchiuse e della bella fanciulla nessun ricordo era rimasto sulla terra se non le mie lacrime solitarie e le funebri campane che dal mare deserto risuonando di nuovo più dolcemente cantavano un requiem sopra la tomba della giovinetta sepolta e sopra la sua urola spenta nel nascere sedetti e piansi in segreto le lacrime che gli uomini hanno sempre dato alla memoria di chi morì innanzi l'alba e per il tradimento della terra nostra madre ma d'improvviso le lacrime e i funebri rintocchi furono ridotti al silenzio da un grido come di molti popoli e da un rombo come dell'artiglieria di un grande monarca che avanzavano rapidamente lungo le valli e sudivano lontano per gli ecchi delle montagne silenzio dissi mentre chinavo l'orecchio verso terra in ascolto silenzio questo è il tumulto stesso della lotta oltre e allora ascoltai più attentamente i bisbigli nel sollevare il capo oppure o cielo è la vittoria finale la vittoria che divora ogni lotta 4 immediatamente in estasi fui trasportato attraverso terre e mari in un regno lontano e posto sopra un carro trionfale fra compagni incoronati di alloro l'oscurità della imminente mezzanotte incombendo su tutta la regione nascondeva al nostro sguardo le immense folle che ondeggiavano senza posa intorno a noi come intorno al loro centro le udivamo ma senza vederle da un'ora erano giunte notizie tanto grandiose da sfidare i secoli troppa era la loro emozione troppa la loro gioia per manifestarsi altrimenti che con lacrime con incessanti e contedeum cui facevano equa i cori e le orchestre della terra queste notizie noi che stavamo sul carro ornato dall'oro avevamo il privilegio di diffonderle fra tutte le nazioni e già con segni che sudivano nell'oscurità con sbuffi e scalpitii i nostri irosi cavalli che non conoscevano timore di stanchezza si rimproveravano l'indugio perché mai tardavamo attendevamo una parola segreta in testimonianza che le speranze delle nazioni erano ormai esaudite per sempre a mezzanotte giunse questa parola che era paterlò e salvezza della cristianità la terribile parola brillava di luce propria si mosse innanzi a noi procede alta sulle teste dei nostri cavalli di guida e diffuse una luce dorata sulle vie che percorrevamo ogni città innanzi alla parola segreta spalancava le sue porte i fiumi ne erano consapevoli al nostro passaggio le foreste mentre correvamo lungo i loro margini vibravano in omaggio ad essa e l'oscurità la comprendeva due ore dopo mezzanotte giungemmo nei pressi di una imponente cattedrale le sue porte che toccavano le rubie erano chiuse ma quando la formidabile parola che correva dinanzi a noi le raggiunse con la sua luce dorata silenziosamente esse indietrezzarono sui loro cardini e a gran galoppo il nostro equipaggio entrò nell'immensa navata della cattedrale la nostra andatura era impetuosa e ad ogni altare nelle piccole cappelle e nei piccoli oratori che si aprivano a destra e a sinistra del nostro cammino le lampade morenti o affievolite si ravvivavano rispondendo alla parola segreta che passava a volo forse quaranta leghe avevamo percorso nella cattedrale e ancora nessuna forza di luce mattinale ci aveva raggiunti quando vedemmo dinanzi a noi le alte gallerie dell'organo e del coro su ogni pinnacolo dei trafori sopra ogni punto praticabile degli intrecci di nervature stavano cantori in bianca veste che inneggiavano alla liberazione che più non versavano lacrime come un tempo ne avevano versato ai loro padri ma a intervalli insieme cantavano alle generazioni dicendo celebrate in ogni lingua le lodi del liberatore e da remote lontananza ricevendo la risposta quale un tempo furono cantate in cielo e in terra e il loro canto non aveva mai fine e la nostra comparsa impetuosa non aveva pause né rallentamenti mentre correvamo come torrenti mentre passavamo col rapimento di una sposa sul campo santo di tombe della cattedrale ci accorgemmo all'improvviso di una vasta necropoli che sorgeva nel lontano orizzonte una città di sepolcri costruita nella sacra cattedrale per i morti guerrieri che riposavano delle loro lotte terrene la necropoli era di granito purpureo ma nel primo minuto fu come una macchia di porpora all'orizzonte tanto era la distanza per un altro minuto si mutò più volte in un tremolio ergendosi in terrazza e torri di meravigliosa altezza tanta era la nostra corsa e già nel minuto seguente col nostro terribile galoppo entravamo nei suoi sobborghi ai delati sorgevano grandi sarcofaghi ornati di torri e torrette che sporgevano audacemente dai limiti della navata centrale e poi si ritraevano in alterni recessi con ombre profonde ogni sarcofago era ornato di molti bassorilievi bassorilievi di battaglie e di campi di battaglie battaglie di età dimenticate battaglie di ieri campi di battaglia che da lungo tempo la natura ha sanato e riconsignato a sé col dolce oblio dei fiori campi di battaglie ancora sconvolti e rossi di carneficina dove le terrazze si allungavano dritte correvamo dritti anche noi dove le torri formavano curva curvavamo anche noi con l'impeto delle rondini i nostri cavalli voltavano ogni angolo come fiumi in piena che aggirano i promontori come uragani che si addentrano nel segreto delle foreste più veloce della luce che disfa il groviglio delle tenebre il nostro volante equipaggio trascinava con sé le passioni terrene riaccendeva gli istinti guerrieri tra le ceneri che ci stavano intorno ceneri quasi tutta dei nostri nobili padri che si addormentarono in dio da Crescia a Trafalgar ed ora eravamo giunti all'ultimo sarcofago ora eravamo all'altezza dell'ultimo basso rilievo già avevamo ripreso la nostra corsa dritta come frezza nell'interminabile navata centrale quando vedemmo una bambina su un carro fragile come fiore risalire una navata incontro a noi le nebbie che le andavano innanzi nascondevano i cervi che la trainavano ma non potevano nascondere le conchiglie e i fiori tropicali con cui ella si trastullava non potevano nascondere gli amabili sorrisi con cui esprimeva la sua fiducia nella maestosa cattedrale e nei cherubini che la guardavano dagli alti fusti dei pilastri si veniva proprio incontro procedeva verso noi come se non ci fosse ombra di pericolo oh piccina esclamai sarai tu il prezzo di waterloo dovremmo essere per te messaggeri di rovina noi che richiamo nuove piene di immensa gioia per tutti inorridito inorridito a quel pensiero balzò in piedi ma allora inorridito al pensiero anch'egli si levò uno che era scolpito sopra un basso rilievo un trombettiere morente solennemente nel campo di battaglia sorse in piedi e sciogliendo la sua tromba di pietra se la portò nel suo spasimo mortale alle labbra di pietra suonando una volta e poi una volta ancora l'avvertimento giunse dai bastioni della morte fino al tuo orecchio piccina ombre profonde primordiale silenzio scesero immediatamente tra noi il coro aveva cessato il suo canto i zoccoli dei nostri cavalli il terribile stridere dei nostri finimenti il gemito delle nostre ruote non risvegliavano più le tombe per l'orrore il basso rilievo si era dissugellato alla vita per l'orrore noi che di vita eravamo così pieni noi uomini coi nostri cavalli dalle focose zampe levate a mezz'aria nel loro eterno galoppo fummo raggelati in pietra allora per la terza volta la tromba suonò da tutti i polsi caddero i sugelli la vita la frenesia della vita corse di nuovo nelle vene di nuovo il coro eruppe in solare grandiosità come da un bavaglio di temporali e di tenebra di nuovo il rombo dei nostri cavalli portò nelle tombe la tentazione un grido proruppe dalle nostre labbra quando ritraendosi le nubi la navata parve vuota innanzi a noi dov'è fuggita la bambina è stata rapita fino a dio ecco lassù in una vasta nicchia tre immense finestre ascendevano fino alle nuvole e imparo al loro vertice a un'altezza irraggiungibile dall'uomo sorgeva un altare di purissimo alabastro sul suo lato orientale tremava un'aureola purpurea era un riflesso della rosseggiante aurora che entrava ora dalle finestre o dalle purpuree vesti dei martiri dipinti sulle finestre o dei sanguigni bassorilievi della terra improvvisa in quella splendente luce purpurea sorse l'apparizione di una testa e poi una figura femminile era la bambina cresciuta a statua di donna stava muta stretta all'angolo dell'altare abbandonandosi sollevandosi delirando disperandosi e dietro alle nuvole d'incenso che notte e giorno salivano dall'altare s'intravvedeva il fiammeggiante fonte battesimale e l'ombra dell'essere terribile che l'avrebbe battezzata col battesimo della morte ma a suo fianco era inginocchiato il suo angelo buono che si nascondeva il viso con le ali e piangeva e intercedeva per lei e pregava mentre ella non poteva pregare e cercava con le lacrime di strappare al cielo la sua salvezza e quando sollevò dalle ali il divino sembiante capì dal fulgore dei suoi occhi che l'aveva infine ottenuta dal cielo 5 allora fu compiuta la passione di quella immensa fuga le canne dorate dell'organo che fino allora avevano solo mormorato a intervalli rilucendo fra le nuvole e le ondate d'incenso lanciarono come da insondabili fontane colonne di musica che spezzava il cuore coro e anticoro si gremirono rapidamente di voci ignote anche tu trombettiere morente col tuo amore vittorioso con la tua angoscia che era al termine entrasti nel tumulto la tomba e l'eco addio amore addio angoscia squillarono nel terribile sanctus o tenebra della tomba che dall'altare purpureo e dal fiammeggiante fonte battesimale fosti penetrata e scrutata dal fulgore dell'occhio angelico erano questi davvero i tuoi figli splendori della vita che da sepolcri di secoli sorgeste di nuovo con voci di perfetta gioia vi mescolaste anche voi in verità alle feste della morte ecco mentre mi voltavo a guardare per settanta leghe dietro a me lungo la cattedrale immensa vidi i vivi e i morti elevare insieme i rocanti a dio insieme cantare alle generazioni dell'uomo tutte le falangi dell'esultanza come armate cavalcanti all'inseguimento muovevano concordi ci raggiunsero noi che col capo incoronato di alloro uscivamo dalla cattedrale e ci avvolsero come in un manto con tuoni più potenti del nostro come fratelli procedemmo insieme verso l'alba che si avvicinava verso le stelle che fuggivano rendendo grazie a dio nell'alto che avendo celato il suo volto durante una generazione dietro dense nubi di guerra una volta ancora sorgeva sorgeva dal camposanto di vaterloo dalla visione della pace rendendo grazie per te giovinetta a cui dio dopo averti ottenebrato col suo ineffabile impulso di morte d'improvviso usò misericordia lasciando che il tuo angelo allontanasse il suo braccio e trovando anche in te conosciuta sorella apparsami un momento e poi nascosta ai miei occhi per sempre un'occasione di glorificare la sua bontà mille volte tra i fantasmi del sonno t'ho veduto farcare le porte dell'adorata aurora e la parola segreta ti precedeva e ti seguivano le schiere della tomba t'ho veduta a sprofondare sollevare derirare disperarti mille volte nel mondo del sonno t'ho veduta seguita dall'angelo di dio per tempeste per mari deserti per le tenebre delle sabbie mobili per sogni e per le paurose rivelazioni dei sogni solo affinché da ultimo con un moto del suo